D'accordo, non siamo ancora tutti direi, però io comincerei, cosa dici Luca? Assolutamente. Ecco, allora questa sessione è coordinata da Luca Censi e da me, che sono Susanna Roncoli ma penso che ci siamo conosciuti, e la sessione è dal securitarismo al governo sociale, lezioni apprese dalle politiche urbane. La sessione funzionerà come quella di stamattina che non so se condividete il mio giudizio, mi pare abbia funzionato bene, nonostante i tempi molto contingentati ma la formula è buona, no? Quindi anche in questa sessione noi partiamo da tre relazioni che vengono dai territori, da tre città, nel nostro caso Reggio Emilia, Firenze, Prato e Napoli, che quindi sommate alle tre città di stamattina mi sembra ci diano un panorama abbastanza interessante a livello nazionale. e poi come nella sessione precedente avremo in chiusura tre amici che sono stati disponibili a lavorare con noi come relatori di Scassant che dopo averci ascoltato ci daranno un ulteriore sguardo critico e metteranno sul tavolo ulteriori contenuti e ci aiuteranno a ragionare sui nostri temi. L'oggetto di questa sessione sono le politiche urbane, quindi come stamattina abbiamo lavorato sulle mappe dei consumi chiamando in causa le città, no? Anche questa mattina. Oggi pomeriggio chiamiamo in causa le città dal punto di vista del governo dei fenomeni, soprattutto di quei fenomeni legati anche al consumo, che hanno, come dire, un qualche impatto sulla vita della città e che chiamano le amministrazioni locali a un qualche intervento di governo, di quanto accade. Sottolineiamo dal securitarismo al governo sociale, perché la regolazione sociale e culturale dei fenomeni di consumo è quello che ci caratterizza. Quando dico ci, dico noi organizzatori della Summer e dico la Summer nella sua storia. Cioè la storia di questa Summer School ha negli anni declinato tantissimi temi e tanti contenuti, ma ha sempre proposto un approccio alternativo a quelli che sono gli approcci mainstream. Stamattina abbiamo parlato, ragionando sui consumi di autoregolazione, anche il governo sociale dei fenomeni parte da quello, cioè parte da quello che è il nostro convincimento, che non è un convincimento maturato nottetempo, ma è maturato dall'esperienza e dalla ricerca, che il primo livello di regolazione sono le capacità di autoregolazione dei consumatori e le culture che chi consuma crea e condivide perché vi sia una regolazione culturale del consumo. Quindi questa è un'accezione di fondo di tutto il lavoro che noi facciamo e anche della nostra proposta formativa e politica. Lo stesso discorso vale per le politiche delle città, passare da un governo che è improntato molto alla legge penale, questo perché anche le città stanno dentro il contesto normativo nazionale e internazionale, e spesso ha una sua particolare declinazione che è quella securitaria, quindi che è quella del governare il territorio anche rispetto ai fenomeni di consumo con un approccio law and order, come si dice. Noi sappiamo che questo approccio è fallimentare, non solo è fallimentare perché non ce la fa a governare i fenomeni, ma è fallimentare anche perché spesso produce ulteriori danni ed esiti negativi, non preventivati o non voluti. E come lo sappiamo noi, lo sanno da ormai parecchi decenni le città e soprattutto alcune città europee. Cito, ma la conosciamo tutti, la famosa risoluzione della conferenza delle città di Francoforte del 1990, che tra l'altro se volete rivederla trovate tutti questi materiali nel fascicolo della Summer che trovate online, e più di 30 anni fa alcune grandi città europee hanno fatto questa carta, che non è rimasta sulla carta, perché hanno cambiato le loro politiche, proprio con un'affermazione molto netta. non riuscivano a governare alcuni fenomeni, allora negli anni 90 erano soprattutto le scene aperte, ma poi alcuni fenomeni che avevano a che fare con la salute pubblica, oltre che con la sicurezza delle città, non riuscivano a governarle seguendo quello che era l'approccio normativo nazionale, e si sono prese la libertà non solo di criticare quegli approcci nazionali, entrando spesso anche in conflitto con i loro stessi governi, ma si sono prese la libertà di inventare altre politiche, e la riduzione del danno nasce lì. Quindi la riduzione del danno nasce dalle città, spesso noi diciamo che la riduzione del danno nasce tentando di limitare quel drammatico danno che è stato l'AIDS in quegli anni, è verissimo naturalmente, la riduzione del danno è anche una politica di salute pubblica, però non dobbiamo dimenticarci l'altro pezzo, perché la riduzione del danno nasce contestualmente al discorso dell'AIDS come politica delle città che si trovano di fronte a fenomeni che prima non conoscevano, quindi a fenomeni da un lato di massa e dall'altro di normalizzazione dei consumi. Allora veniamo da lì, molte cose sono successe in questi trent'anni, non troppe cose nelle nostre città, a dire il vero, abbiamo però delle novità interessanti, sia perché le città, alcune città nel frattempo hanno sperimentato e hanno fatto delle cose e oggi sentiremo qualche cosa di questo, e sia perché, come credo sappiate tutti, quest'anno è nata una prima embrionale rete delle città italiane per l'innovazione nelle politiche sulle droghe, di cui domani avremo alcuni assessori come esponenti di questo nuovo movimento. Quindi siamo in marcia anche noi in Italia rispetto a questo. Allora, l'obiettivo di oggi è, partiamo da alcune esperienze, interroghiamo queste esperienze, voglio dire che queste esperienze, ce lo dicevamo con Luca, non sono state scelte perché sono le buone prassi che vi vogliamo proporre, sono state scelte perché sono delle interessanti esperienze di governo di alcuni fenomeni urbani che però noi siamo qui per interrogare criticamente, quindi troveremo dei punti di forza che ci piacciono, troveremo anche delle criticità e sarà importante dirsele perché, e poi mi taccio, il lavoro di oggi serve anche a mettere di fila alcuni punti che noi restituiremo domani mattina in apertura agli assessori che saranno nostri ospiti. Quindi li interrogheremo, porremo loro delle domande, se non delle raccomandazioni, vediamo come vogliamo fare, in apertura dei lavori di domani perché vogliamo, insomma, che quello che loro domani diranno sia messo in relazione con il lavoro che noi abbiamo fatto. Questa prima parte, l'affido a Luca che in questa prima parte ha un doppio ruolo perché coordina ma prenderà anche parola. I discussant li presenterò meglio dopo quando diamo loro la parola, comunque sono Vincenzo Scalia, Cristian Raimon e Margherita Neri, ma poi ve li presentiamo. E cominciamo con l'esperienza di Reggio Emilia che ha a che fare con la situazione che si era creata all'ex fabbrica delle Reggiane e su cui la città ha svolto un articolato intervento. Quindi Luca, presenta tu i tuoi relatori. Grazie, benvenuti. Prima di iniziare ricordo che chi vuole fare delle domande può interagire attraverso il Padlet. Vi ho mandato il link prima, quindi utilizzatelo. Presento gli ospiti e presento anche me. La progettazione ve la sbricioleremo subito dopo. Massimo Repetti ha una formazione scientifica, ha lavorato nell'arco della sua vita all'interno di ruoli tecnico-dirigenziali, non viene dal mondo del sociale. Il mondo del sociale è stato, si può usare il termine impattato, incrociato, in un momento particolare della nostra città, su investitura diretta del primo cittadino dell'assessore al welfare che avevano bisogno di risolvere il problema dell'occupazione di questo grande stabile. Marco Trevia è coordinatore del tavolo che si è costituito per gestire questa situazione. Marco Trevia, invece, formazione etnopsichiatrica, e poi si presenta meglio se occorre, è direttore dell'area nord del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Io sono Luca Censi, sono operatore sociale, coordino l'unità di strada di Reggio Emilia che è intervenuta all'interno della rete per, diciamo così, fare quello che andiamo a spiegare. Quindi prego Massimo, dieci minuti. Bene, grazie dell'invito. Quindi cercherò di dedicare la mia presentazione al setting, quindi alla contestualizzazione nell'ambito della città. Le Reggiane erano uno stabilimento che nasce all'inizio del Novecento, impattando moltissimo sulla vita della città. Qui vedete degli aerei, parliamo quindi degli anni 30, degli anni 40, e 12.000 dipendenti su una città che ne contava 60.000 nella sua totalità. Quindi le Reggiane, questa slide serve per dire che le Reggiane ha una lunga storia e questa storia ha inciso tantissimo sulla realtà di una città medio-piccola come può essere quella di Reggio Emilia. Quindi ha una sua storia molto molto importante. Ha anche un impatto significativo in termini di localizzazione. Qui potete vedere il centro storico di Reggio, la parte più visitabile, diciamo così, quella che ha le emergenze storiche e artistiche più interessanti. Come vedete le dimensioni sono molto simili a quelle delle Reggiane, che ha una superficie fondiare di 255.000 metri quadrati al momento in cui ha chiuso i battenti dopo tanto tempo. Quindi capite che, ecco, importante che cosa, anche la posizione, come vedete vicino al centro storico, la stazione centrale di Reggio Emilia è qui. Bene, quindi storia industriale, capannoni di varie fogge, di varie strutture che sono attualmente in parte oggetto anche di una ristrutturazione recupero urbanistico anche architettonico verso quell'area della città. Però negli anni dall'abbandono, vedremo la cronologia, vedete che ha assunto degli utilizzi diversi da quello che si poteva immaginare o meglio, era possibile immaginarlo ed è accaduto. È accaduto con questa successione. L'azienda è fallita nel 2003, con tutto, diciamo così, il contesto storico italiano di Mani Pulite prima, poi, cioè quindi non manca neanche un pezzo della storia italiana. Nel 2004 il vero e proprio abbandono. Le prime occupazioni nel 2008, scusate, nel 2008, quindi crisi Lehman Brothers, soprattutto gente proveniente dal Nord Africa che lavorava già in Italia, entrata in crisi, perso il lavoro reggiane. Prime occupazioni, con le punte nel 2014, diciamo molto in corrispondenza anche con la recrudescenza delle leggi sulla regolarizzazione delle posizioni dal punto di vista legale nella permanenza in Italia. E 2020 il protocollo reggiane, che è lo strumento che è stato utilizzato e dopo descriveremo meglio. Cosa voleva dire vivere le reggiane? Parliamo quindi, vedete, dal 2008 siamo arrivati al 2020, quindi non due giorni, tanto tempo. Nel 2018 è stato fatto un censimento degli insediamenti informali. In Emilia Romagna era il più grande, sostanzialmente più rilevante. Essere lì voleva dire non avere costi, perché ovviamente lì non costava abitare. Era molto vicino alla stazione, al centro storico, quindi una posizione strategica dal punto di vista della vita di strada, diciamo così, e come avete visto un'area molto vasta, difficilmente controllabile, quindi una certa area franca. Voleva dire però anche trovare un vero e proprio contesto etno-urbanistico all'interno della città, nel senso che si sono create delle vere e proprie comunità, la comunità ghanese, piuttosto che quella nigeriana, piuttosto che gambiana, che hanno, avevano una loro socialità all'interno della realtà. Come venivano visti il cosiddetto popolo delle reggiane? Sostanzialmente gli slogan erano sono tutti spacciatori, tutti irregolari, è una vergogna della città, incapacità di risolvere il paradigma di non risolvere assolutamente nessun problema da parte dell'amministrazione e in più un'area off-limits, perché nessuno andava volentieri alle reggiane a fare un picnic. Quindi certamente era un'area così importante molto off-limits. Ovviamente questo veniva riportato sulla stampa locale periodicamente con molta incidenza e in più presentava un ostacolo sviluppo urbanistico verso l'area che va al campo volo, per chi ha sentito parlare del campo volo, per le manifestazioni musicali ad esempio. La realtà era che era effettivamente una zona con presenza di spaccio e consumo, ma su una piazza marginale, quindi rispetto a quello che veniva descritto o forse con un'entità inferiore a quanto raccontato. Soprattutto parliamo di un centinaio di persone multiproblematiche, quindi con problemi coesistenti, con problemi sociali, culturali, antropologici, di consumi mentali, come verrà spiegato meglio dopo e lì proprio percepisci come la povertà diventa un aggravante, una malattia in sé e lì parliamo di povertà estrema perché effettivamente le condizioni erano molto, al di là di quel giaciglio che ho fatto vedere, non vedrete altre slide, ma le condizioni di vita erano veramente molto 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 al margine. E ovviamente questo vuol dire meno diritti che è la possibilità che si voglia risolvere con un intervento repressivo il cosiddetto problema. Quindi tag negativi, ghettizzazione, controllo e repressione contro accoglienza, integrazione e diritti. Sembra facile però non è scontato. Cosa succede? Che a un certo punto con, devo dire, con la spinta soprattutto del sindaco e anche del vescovo, si è provato a fare un progetto di accoglienza diffusa. Quindi non uno sgombero con metto tutti in un posto poi vediamo che cosa fanno, ma una progettualità uno a uno. E questi sono stati firmatari del protocollo. Protocollo che è stato firmato alla fine di dicembre del 2020. Scusate. Allora, STU, che è l'unica che non si autospiega, è la società partecipata anche dal Comune per le attività di recupero urbanistico nella città, particolarmente sulle Reggiane. Perché, come avete visto, è un'area molto grande e molto presente nella vita della città. Il protocollo, qui avevamo già cominciato come operatori, a dividere in obiettivi nell'ambito patrimoniale, istituzionale e sociale. Però di base c'era che si voleva fare un'accoglienza diffusa con una progettualità uno a uno. Allora, i firmatari operativi, chiamiamoli così, del protocollo, sono soprattutto questi che hanno, diciamo, dato un mandato chiaro. Cioè, si voleva staccarsi da una modalità, diciamo così, repressiva e violenta, che rimaneva sempre un'opzione comunque, perché il fiato sul collo di prefettura e quest'ora l'abbiamo sentito con continuità, e il mandato quindi chiaro, forte, che ha permesso di ingaggiare dalle varie istituzioni professionalità e risorse rilevanti e importanti. Quindi non il primo che passava, ma persone che, cioè, i meglio del mazzo, diciamo così, per poter affrontare questi temi. Quindi un'analisi, devo fare un po' anche il tecnico, visto che inaspettatamente sono qui, come... Quindi ho cominciato a redigere delle suddivisioni di aree, anche perché tutti capissero dove si trovavano. Questa area era già oggetto di una ristrutturazione eseguita e questa era una ristrutturazione in corso o prevista e tutto il resto era l'area occupata, fuori dalla linea blu, dalle persone con diverse intensità aria per aria. Scusate. No, no, sono stato io. Anche qui, proprio per parlare tutti la stessa lingua, è stata mappata le aree con le presenze, dando delle indicazioni anche tecniche relativamente a come non permettere più il riutilizzo di queste aree ad uso abuttativo una volta che fossero state, si fossero spostate le persone che vivevano qua. Che progressivamente si è iniziato a, da una parte, migliorare un po' le condizioni in in quell'area e uscire dal pantano e dire lo facciamo, non lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, anche se si esce. Quindi bagni, pulizie e in realtà, qui vedete, vedete anche Luca qua, un servizio di prossimità con l'unità di strada e con il centro salute famiglia straniera dell'USL di Reggio, si è data un'assistenza che è iniziata anche prima del protocollo in termini di inizio, diciamo così, di colloquio ma soprattutto di aiuto sanitario perché il rischio sanitario, come verrà spiegato, era piuttosto grave. Abbiamo utilizzato anche delle, e come vedete c'è stato anche un focolaio di Covid, giusto per, perché insomma il periodo era quello, il 2021, parliamo di un progetto che si è sviluppato nel 2021. Abbiamo utilizzato anche concetti di prossimità come delle assemblee, questo che vedete che sta parlando è l'assessore al welfare e bilancio del comune di Reggio, abbiamo fatto quattro assemblee contattando tutte le persone spiegando quello che era il progetto e questo è stata una delle cose che ha marcato la differenza rispetto al passato. Quindi il team ha lavorato su questi ambiti, quindi colloqui, assemblee, aspetti sono stati soprattutto quello sociale, quello legale, importantissimo per queste persone e quello della salute. Di tutto ciò verrà raccontato dopo, quindi vado velocemente. In realtà quindi alla fine c'è stato un ingaggio piuttosto ampio della città, devo dire, e quindi vedete che qui sono comparsi anche il volontariato, la cooperazione sociale e alla fine più di 35 organizzazioni in qualche modo hanno interagito col progetto. Ovviamente gli attori principali sono quelli di prima. 104 persone sono state accolte, di queste su 100 sono, erano o regolari o sono stati regolarizzati tramite questo sportello legale dentro le Reggiane, quindi itinerante, diciamo. E ci sono tutta un'altra serie di diritti, quali per esempio residenza enografica medico di base, che abbiamo cercato di rendere possibili per questa popolazione. Il lavoro è un altro aspetto sicuramente molto importante e va detto tra le righe. Le ultime persone sono uscite a settembre del 2021, ma noi ci stiamo ancora trovando per seguire i percorsi personali dopo un anno delle persone. Alcuni si sono già francati, diciamo così, e sono autonomi, altri meno. I principi quindi che abbiamo attuato sono quelli della prossimità, della continuità nel fare le cose e l'eccellenza. Per fortuna poi ha dato luogo a una progettazione ulteriore, questo è il nuovo centro servizi dei senza dimora che proprio tiene presente questa eccellenza, prossimità e continuità nell'azione che viene fatta nei confronti delle persone. Quindi questa slide serve per giustificare il fatto che stiate parlando con un ingegnere, per cui e quindi sistema complesso, visto che è un sistema, certamente è stato un sistema complesso, quindi ci sono state un sacco di turbative, come potete vedere qui, qui c'è anche Brumotti di striscia notizia che non è mancato, però quindi tramite degli ottimi professionisti la conoscenza delle quelle che vengono nei sistemi complessi chiamate le leggi semplici della fisica classica. Dopodiché succede cose che non ci aspettiamo perché la fisica classica non ce ne dice, però sappiamo dove siamo e riusciamo in qualche modo a gestirle e questo è quello che è accaduto. Provo a passare il testimone quindi ai prossimi e grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, cercherò anche io di essere abbastanza stringato perché il tempo è quello e parto dalle ultime cose che diceva l'ingegnere Petti rispetto alla, mi sembra che hai citato Brumotti, l'intervento di striscia la notizia, che è una cosa che avevo io già subito condiviso con i colleghi quando avevo poi visto, non ho visto subito diciamo il servizio di striscia la notizia, ma la cosa che mi colpì di più è non tanto l'immaginario che venne descritto e quindi le situazioni di marginalità e di degrado che c'era, quanto il parrucchiere. C'era un parrucchiere alle Reggiane con una panca e c'erano tre persone che aspettavano tranquillamente il loro turno per andare dal parrucchiere. Questa è una cosa che mi colpì tantissimo al di là della chiesa, il bar e tutto, quindi come diceva l'ingegnere Petti, era una comunità che si era organizzata e si era organizzata autonomamente per anni perché evidentemente per molto tempo questa organizzazione interna è stata tra virgolette consentita, tollerata, andate a sapere come e questo era un qualcosa da tenere presente nel momento in cui si sarebbe entrati e con una certa indicazione, no? C'era un'indicazione. Allora, il mio intervento è che cosa ci fa uno psichiatra, un etnopsichiatra all'interno di quelle che io ho chiamato le terre di mezzo, no? Le terre che non sono civilizzate, sono state colonizzate, si sono costruite un'autonoma collettività con i i loro ritmi, le loro cose. Io ho un'esperienza che viene appunto dalla psichiatria territoriale, che rimane in psichiatria territoriale, vent'anni che faccio lo psichiatra sul territorio, che ho una formazione in etnopsichiatria, sono un etnopsichiatra, mi sono occupato di disturbi psichici dei migranti, mi sono occupato recentemente, diciamo fino a 7-8 anni fa, quando ero nell'USL di Parma di rifugiati richiedenti asilo e quando entrai nel gruppo che si occupava di quello dissi guardate che io vengo volentieri per cercare di portare la mia esperienza, la mia cosa, ma vorrei evitare che il fatto che uno psichiatra entra all'interno di un coordinamento per accoglienza di rifugiati richiedenti asilo, significhi ulteriormente stigmatizzazione, come se uno che è torturato, vittima di abusi, di traumatismi lunghi e perpetrati nel tempo, per mesi, mesi, se non per anni in alcuni casi, solo per questo deve avere anche l'etichetta di paziente psichiatrico, insomma. Quindi questo è il gruppo di lavoro che avevo allora, io ero il referente psichiatra dell'azienda che accoglieva, valutava e costituiva dei progetti per rifugiati richiedenti asilo. Mi sono trovato appunto in questa situazione. Quindi il direttore del dipartimento e il direttore dell'azienda delle attività sociosanitarie mi hanno chiesto di come rappresentante del dipartimento di partecipare a questo gruppo di lavoro. E una delle cose che mi sono detto subito, in continuità con quello che dicevo prima, è come riuscire a gestire seriamente i margini etici del nostro agire psichiatrico, cioè come non psichiatrizzare la marginalità di per sé, ma come invece individuare attraverso gli sguardi molteplici di professionisti di varia estrazione, quello che poteva e doveva essere in qualche modo accolto, valutato e sostenuto anche dal punto di vista psicologico-psichiatrico, e come invece leggere altri comportamenti, attitudini, modalità che erano legate molto probabilmente alle condizioni di vita e a quella comunità che si era costruita, quindi ai margini della società. E la salute mentale, come dicevano prima i colleghi, è causa o conseguenza, cioè la perdita della salute mentale è causa o conseguenza della marginalizzazione per non dire dell'abuso di sostanze, dell'uso o abuso di sostanze. Il discorso dello stigma lo possiamo fare anche, e l'abbiamo fatto a proposito della pressione mediatica che ha in qualche modo condizionato anche il nostro agire. Però chi è che stabilisce il margine? Noi siamo, noi come quelli che sono di fuori, quindi quelli della civiltà moderna, diciamo in qualche modo aggregata, della collettività civile, possiamo dire che qui c'è un limite, di là c'è la marginalità e di là ci siamo noi. Possiamo dirlo, però poi alla fine è la singola collettività, diciamo la singola civiltà che stabilisce quali sono o non sono i margini. E questa stessa città, come diceva l'ingegnere Repetti prima, per anni in qualche modo quel limite lo ha tollerato o comunque ha fatto in modo, non intervenendo pesantemente, che si costituisse una sorta di banlieue, di bidonville all'interno, nel cuore, all'interno di una piccola città come Reggio Emilia che aveva delle sue regole, che aveva una sua autodeterminazione. Quindi questa è la prima cosa, cioè cosa posso dare io e il Dipartimento di Salute Mentale che questo rappresentava? Degrado, marginalità, devianza. Siamo sicuri che sia solo una scelta o sono delle situazioni che si sono avvenute a determinare nel tempo per alcune persone perché nessun'altra delle opportunità che sono state offerte hanno potuto portare a qualche utilità per loro. Quindi poi scorro alla lunga dell'aspetto della delinquenza e della criminalità che facilmente veniva localizzata in quell'area. Così come ho detto prima quanto la marginalità è legata alla perdita o meno della salute mentale o quanto la perdita della salute mentale conduce verso la marginalità, la stessa cosa si può dire per quanto riguarda l'uso e abuso di sostanze e l'integrazione con la migrazione. Cioè la migrazione di per sé o comunque i disagi e i motivi della migrazione sono fattori di rischio delle tossicomanie o no? E come si può integrare le due cose? Un'altra accezione che vi faccio che riguarda il fatto che la maggior parte diciamo degli extracomunitari coinvolti o meno nelle nostre alla nostra attenzione così come quelli che fuori dalle reggiane erano sono diciamo appartengono a una micro criminalità quelli che noi chiamiamo reati di esigenza cioè di sopravvivenza non certa una grande criminalità e anche le mafie diciamo i clan principali meglio organizzati albanesi, kosovari e cinesi chiedo a Massimo conferma non abbiamo visto neanche l'ombra all'interno delle reggiane tanto per dire che la povertà si è autocostituita anche secondo dei crismi interni e non secondo invece delle coercizioni dal punto di vista di clan criminali che non abbiamo non abbiamo trovato. L'altra cosa che è utile per me dirvi è che io ho la direzione da diversi anni di due servizi di salute mentale della bassa reggiana e da quattro anni dirigo anche due SERDP. Quindi questo mio essere un po' a ponte tra la salute mentale e le dipendenze patologiche spero non è automatico ma spero che abbia agevolato un po' la possibilità che non è sempre stata scontata e semplice di comunicazione tra il servizio di salute mentale e i servizi per le dipendenze patologiche questo indipendentemente dal luogo dove lavoro adesso come da Parma o da Mantua dove avevo lavorato in passato in tutti i servizi, in tutti i dipartimenti di salute mentale è sempre stata evidente una difficoltà a integrarsi pienamente salute mentale e dipendenze patologiche forse anche perché sono servizi il servizio di salute mentale è un servizio di primo livello quindi abituato a fare le urgenze, le accoglienze a intervenire immediatamente nel momento che il disagio mentale si manifesta per aspetti ontologici, strutturali insomma le servizi per le dipendenze patologiche sono invece un servizio di secondo livello cioè si agisce prevalentemente per le persone che hanno una certa motivazione ad andare al servizio a farsi aiutare a avere una certa consapevolezza del loro disagio quindi il fatto io di essere direttore diciamo sia della salute mentale che delle dipendenze patologiche che ha fatto sì spero ripeto che in questa situazione in cui non si poteva non intervenire insieme e non valutare insieme i servizi nel caso specifico di Reggio Emilia con un po' di difficoltà iniziale hanno poi contribuito fornendo professionisti che ingaggiati da me e tutto sono riusciti diciamo a intervenire dando il loro contributo e la loro interazione condivisa alle situazioni che di volta in volta abbiamo due minuti abbiamo affrontato allora avendo poco tempo vi ho voluto portare due casi emblematici secondo me che abbiamo incontrato uno sicuramente devo dire l'unico caso veramente psichiatrico che abbiamo visto su 104 persone di cui ci siamo occupati e l'altra che non aveva assolutamente nulla a mio modo di vedere di psichiatria ma che ha occupato il diagnosi e cura per alcune settimane allora il primo è un ragazzo di poco più di 20 anni di cui sapevamo poco e niente qui vedete Luca Censi che va a esplorare per il dottor Trevia quello che era uno dei due siti il dormitorio diciamo di questo occhio un ragazzo che aveva scelto il punto più distante delle Reggiane quello più lontano possibile dal centro delle Reggiane che invece era molto organizzato dal punto di vista e che quando noi gli abbiamo proposto quasi un appartamento perché era una stanza ampia che doveva contenere tre persone abbiamo lasciato un solo letto per lui un bagno autonomo una uscita autonoma di modo che lui non avesse neanche da incontrare altre persone abbiamo provato 4-5 volte a portarli in quelle stanze non c'è stato verso il ragazzo è tornato prima cercava i suoi ambiti questo era un altro dei posti dove viveva poi alla fine non l'ha trovato ed è andato alla stazione mi sembra in un ambito della stazione dopo averlo cercato di riportare in un ambito di accoglienza 5 volte abbiamo deciso questo ha una diagnosi sicuramente di schizofrenia insomma non di schizofrenia paranoia di schizofrenia simplex abbiamo deciso di fare una presa in carico molto leggera insomma di tra l'unità di strada la polizia ferroviaria che ci ha dato una mano altre cooperative il drop-in del SERDP e anche una o due colleghe del centro di salute mentale fare delle osservazioni per vedere come occhio stava fargli ogni mese la terapia de poche comunque lo ha aiutato a stabilizzarsi un pochettino e questo è un il vero caso psichiatrico delle reggiane e poi c'è chiudo con la mammina della reggiana perché in tutto questo non poteva mancare la gravidanza alle reggiane c'erano due donne una l'ho chiamata Juliet non è proprio il suo nome ma una ha partorito praticamente alle reggiane nel senso che ha partorito il Santa Maria Nuova ma ha fatto quasi tutta la sua gravidanza alle reggiane e la cosa centrale che vi dico che fino a poche settimane dal parto aveva tutta l'intenzione di tornare nella sua casa tra virgolette all'interno una casa simile a quella che ho indicato all'interno delle reggiane in cui con i suoi riti e le sue modalità stava preparando lei e il suo compagno l'alloggio all'arrivo del bambino quindi metteva i suoi rituali colorava la stanza è stata seguita praticamente per tutta la gravidanza visto che era una ragazza di 20 anni con un'enorme fragilità che viveva nelle condizioni che voi potete immaginare è stata seguita da assistenti sociali aveva una psicologa di riferimento aveva una psicologa di riferimento questa è la stanza del diagnosi cura dove è stata ricoverata per tre settimane la prima volta e una decina di giorni la seconda volta vedete il pannolino la bandiera del biafra da cui veniva e il riferimento al bavaglino al suo bambino non vi dico altro è stata ovviamente una enorme difficoltà nel momento in cui ha dovuto dopo il parto all'ospedale sapere che non sarebbe potuta tornare con il bambino e col suo compagno all'interno di quella stessa fatiscente manufatto in cui aveva aspettato la sua gravidanza e il bambino vi ho messo la diagnosi perché capiate che appunto come come tutti noi abbiamo come molti di noi hanno capito il problema era di un'altra natura ma la reazione emotiva e comportamentale comprensibilissima di questa donna ha fatto sì che anche persone avezze da anni a confrontarsi diciamo con le migrazioni il trauma la tratta la fragilità persone che hanno lavorato con me per vent'anni venticinque mi dicessero Marco questa è mattissima mattissima non riesce a stare da nessuna parte adesso è in un suo appartamento le cose stanno andando ha compreso che attraverso una adesione a un progetto di sostegno ha la possibilità di vedere il suo figliolo e forse anche magari di tenerlo con sé prossimamente quindi questi sono aspetti della della dinamica materno-infantile che anche in quelle circostanze che sembrano lontane dalla civiltà e dal e dal mondo però sono state presenti e di cui era importante avere menzione concludo in questo modo dicendo che abbiamo trovato una percentuale di disturbi psichici almeno a mio modo di vedere inferiore a quella che io mi attendevo in quel contesto che abbiamo fratto fronte come diceva Massimo alla pressione mediatica ed altre persone e alla difficoltà appunto iniziale che devo dire adesso si sta riducendo del servizio delle dipendenze patologiche di entrare in connessione con il servizio di salute mentale con questa tipologia di bisogno e che comunque come conclusione io direi è che multiproblematicità multidimensionalità non possono dare alto come risposta a un'integrazione quanto più ampia possibile che sia però guidata e che quindi possa portare un'integrazione la migliore collaborazione possibile servizio di salute mentale SERDP terzo settore stato a mio modo di vedere fondamentale in questo percorso che non è concluso l'unità di strada al centro salute famiglia straniera e le associazioni cattoliche e laiche che ci hanno aiutato e che ci stanno continuando ad aiutare quindi integrarsi per superare o tentare di superare quelli i problemi che affrontandoli da solo ognuno da soli ognuno con la nel suo con la sua circoscritta modalità di azione non sarà mai possibile fare non siamo solo a una parte del nostro progetto insomma come spesso dico e come anche Massimo mi aiuta però in un anno e mezzo qualcosina abbiamo provato a fare almeno abbiamo provato a fare dunque vado velocemente anche io salterò diciamo delle delle parti perché sono già state descritte un attimo che si sta il microfono si vede perfetto forse è un po' scuro il titolo del mio intervento è pratiche di prossimità applicate alla gestione di insediamenti formali è l'argomento che è stato tratto fino adesso partendo dal quadro di riferimento e cercando di fornire alcune direttrici interpretative del fenomeno mi sono fatto aiutare da alcuni aforismi legati al mondo della fotografia per esempio il fatto appunto la citazione di Duanò che dice se sapessi come si fa una buona fotografia la farei sempre sottolinea diciamo il costante aggiornamento rispetto ai fenomeni e anche l'altra attenzione che gli operatori a mio parere che intervengono all'interno di queste situazioni devono conoscere e su cui devono essere informati in particolare rispetto all'insediamento parliamo delle direttrici migratorie che corrispondono poi con le dati di cui parlava Massimo in conseguenza alle primavere arabe parliamo del questa è una cartina molto interessante dell'Uno DC che evidenzia il traffico illecito di tramadol all'interno del continente africano e vedete che le direttrici sono perfettamente sovrapposte alla rilevazione e alla testimonianza che avevamo raccolto nella presentazione della progettazione sul consumo di tramadol quindi il golfo del West Africa che risale verso la Libia e poi porta in Italia dove sono presenti e Medici Senza Frontiere ha mappato 2016 fuoricampo 2016-2018 gli insediamenti informali e dove appunto mancava vedete l'insediamento delle reggiane in questa cartina sono segnati anche gli ordini di grandezza adesso dovrei ingrandire da sgranata comunque l'insediamento di Rimini era circa un terzo un quarto rispetto a quello delle reggiane e semplicemente diciamo l'abbiamo segnalato noi a Medici Senza Frontiere ecco quindi loro non erano a conoscenza contestualmente questo Stefano secondo me se lo ricorda la rivelazione tua della Campo Seragna questa penso sia anche un collega ha cercato riferimenti rispetto alle motivazioni diciamo così all'intersecazione tra il tema delle dimissioni dai CAS e il consumo di sostanze penso che il vostro sia rimasto uno dei pochi contributi a livello italiano rispetto a questo tema ed è insomma è molto interessante è stato molto interessante e ritorna appunto all'interno del contesto in cui agivamo le foto che vedete sono foto di due fotografi che sono venuti con noi hanno conosciuto i ragazzi autonomamente hanno portato hanno pubblicato su TP un lavoro appunto sulle reggiane quali sono le regole del gioco innanzitutto è la questura di competenza che riceve la domanda di richiesta d'asilo e ci sono tempi di attesa molto lunghi contestualmente Eurodac dice che c'è una mobilità interna all'interno degli stati Schengen di circa il 50% quindi questo ci serve e questo dato è il dato delle espulsioni in Italia viene segnalato che il tema delle espulsioni avviene senza un criterio di gradualità e di proporzionalità tendenzialmente questo l'abbiamo già detto per motivi legati a comportamenti violenti o infrazione disciplinare di regolamento nonché controlli al di fuori dei percorsi di accoglienza e contestazione di detenzione di sostanze illegali le conseguenze appunto sono il popolamento di insediamenti informali per quanto riguarda i migranti con un'altissima mobilità e con diciamo varie carriere migratorie quindi migranti appena arrivati in Italia in uscita dai centri di accoglienza o dalle carceri migranti con carriere più lunghe e persone irregolari in generale il diciamo l'aspetto principale che era emerso anche all'interno delle reggiane tra cui c'è stato anche un tentativo all'interno del dialogo della rete per andare a definire meglio quali erano gli obiettivi comuni era diciamo la reale impossibilità di conoscere i profili personali per quanto riguarda noi in un'ottica appunto di individuazione di percorsi specifici e quindi con risultati attesi ovviamente migliorativi rispetto a una non conoscenza le prime diecimila fotografie sono le peggiori dice Bresson in un'epoca in cui non c'era il digitale quindi le fotografie si facevano a mano e bisognava svilupparle quindi questo per dire appunto che i livelli di approfondimento devono essere costantemente rivalutati per quanto riguarda i consumi la cartina l'avete già vista spazio multipolomematico vicinissimo al centro cittadino possiamo dire che specialmente in relazione al covid e l'ingresso del crack fino a prima del covid le reggiane erano un luogo di vita addirittura in alcune aree la popolazione tendeva a essere fortemente espulsiva nei confronti sia dei consumatori che di chi vendeva sostanze c'è tutto infranto con il periodo covid quindi la marginalità è stata relegata esclusivamente all'interno delle reggiane e c'è stato un forte interesse soprattutto della parte nigeriana nel controllo di quell'area e tutti i consumatori della città si riferivano appunto per la compra di sostanze principalmente legali le caratteristiche per questi principalmente afferivano alla unità di strada quindi non sono le caratteristiche generali della popolazione un'età media molto giovane un percorso migratorio abbastanza recente un diciamo un riferimento al rientro in Italia dal territorio europeo e quindi uno spostamento anche molto più importante di quello che di solito si immagina e la difficoltà a reperire un domicilio fondamentalmente in questo caso sto parlando di persone che avevano motivi umanitari rientrate in Italia non potevano rinnovare appunto per mancanza di domicilio le caratteristiche specifiche invece sono quelle che ben conoscete rispetto alla questione migratoria quindi non orientamento rispetto ai servizi una scarsissima conoscenza del territorio una totale mancanza di supporti legali nel proseguimento dell'iter all'interno di contesti di marginalità lo stupore è stato anche da parte a volte anche dell'amministrazione è stato sapere che le persone potevano portare avanti autonomamente senza essere all'interno dei CAS la richiesta d'asilo ad esempio quindi non autonomia da questo profilo e nel caso dei gambiani l'assenza di comunità di riferimento le dimissioni quindi precedenti per reati di dispaccio e l'aumento del consumo di sostanze e il viraggio su sostanze più pesanti rispetto ai bisogni Robert Robert Kappa dice appunto che se le tue foto non sono buone vuol dire che non era abbastanza vicino chi conosce Kappa penso tutti forse non conosce l'aneddoto relativo alla sua morte perché salta su una mina in Indocina quindi diciamo che questo aforisma per me continua un doppio monito ecco non so se capite anche tutta la questione del burnout e dal punto di vista sanitario appunto qua c'è una descrizione di quello che i colleghi vi hanno già spiegato quindi cose che immaginate screening malattie sessualmente trasmissibili HIV 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 malattie infettive soprattutto finalizzate nei confronti della popolazione irregolare sempre uscite congiunte almeno una volta a settimana con un team sanitario e diciamo un forte lavoro di accompagnamento tra una bassa soglia e i servizi specialistici del secondo livello in alcuni casi è stato possibile attivare l'assistenza sanitaria di base quindi dal punto di vista sanitario è sempre la collaborazione è stata specialmente con il dipartimento centro di salute mentale e dipendenze patologiche il focus in questo caso è stato specifico sulla riduzione del danno e in particolare sulla mediazione supportati dai mediatori che in questo caso sono stati molto utili nello spiegare diciamo il perché nei confronti di consumatori di crack che ci chiedevano cosa sta succedendo offrivamo materiali di riduzione del danno come per esempio pipe da crack tutte queste prestazioni sono state potenziate e diciamo progettate sul caso specifico in occasione del percorso di accoglienza di cui vi ha parlato Massimo dal punto di vista sociale sempre educativa di strada o comunque all'interno delle regione per esempio non serve anche qua dirlo funzionava molto il medium della musica del gioco e c'era molto questa richiesta anche di in qualche modo animare durante le uscite supporto accompagnamento a il dormitorio strutture ponte accesso alla casa e lavoro specifico caso per caso per individuare la risorsa migliore a disposizione e per la persona in uscita dalla reggiane tutto questo in buona sostanza è stato dovuto all'atteviazione di un sportello legale di bassa soglia che usciva con l'unità di strada e diciamo collezionava documenti e accompagnava le persone in questura contattava avvocati che magari non risiedevano sul territorio di Reggio Emilia perché le persone provenivano da tutta Italia e tutto questo è l'approfondimento legale scusate i procedimenti che si sono seguiti sono stati riguardavano il rinnovo appello pratiche penale civili il rimpatto assistito e il ricongiungimento familiare in diciamo in termini minori numericamente ho finito tutto questo diciamo è stato coordinato ma questo l'avete già capito con una figura che è quella di Massimo nominata direttamente dal primo cittadino e dall'assessore del Welfal la parte sanitaria lo sportello sociale senza dimora quindi il servizio sociale territoriale dedicato appunto a questo target è il terzo settore ho finito grazie grazie a tutti e tre situazione molto complessa intervento molto complesso darei spazio a caldo diciamo a un paio di interventi interventi domande osservazioni su quello che che abbiamo ascoltato chi vuole dire qualcosa è pregato di venire qui perché così riusciamo anche a fare la ripresa oltre che ad ascoltarlo grazie al microfono Claudio se c'è qualcun altro si prenota nel frattempo semplicemente una domanda quale destinazione hanno avuto 250 mila 250 chilometri quadrati non mila se non altrimenti che destinazione cioè qual è stato il progetto su quest'area come è coinvolto la città e la seconda domanda è non era prevedibile all'interno di questi spazi enormi visto che esisteva già una comunità la scritta voi molto bene non era possibile pensare un'allocazione non una uno ma all'interno delle regione in una riconversione di questo di questa comunità di questo gruppo di di immigrati stavo pensando appunto ad alcune realtà romane se mi chiedessero la riconversione dello spin off io faccio le barricate mi do fuoco per protesta davanti al piazzale ma evidentemente quello è un ambiente particolare un palazzo una situazione molto limitata certamente vi sarete posti anche queste domande io quindi ve le pongo grazie Claudio se c'è un'altra domanda la raccogliamo così poi diamo la parola c'è una domanda dal padre adesso la progettiamo ok non so se qualcuno l'ha fatta perché è non si legge bene domande sulle regione off se volete venire con spiegarmi con il microfono stando dietro perché ci sono le riprendine sì grazie mille mi complimentavo con la volontà politica che c'è stata dietro a un progetto del genere che non era assolutamente scontata nel senso che siete stati molto chiari nello spiegare qual era stato il mandato eccellenza prossimità e continuità ripeto è qualcosa assolutamente di non scontato però tutto questo ha un costo enorme mi viene da dire nel senso che ricercare l'eccellenza proseguire durante tutto il percorso accompagnare le persone e accompagnarle uno a uno richiede appunto competenze molto molto elevate molto tempo e necessariamente insomma un investimento di denaro che normalmente il pubblico non ha mi viene da dire che essendoci la Stu probabilmente la riconversione appunto è una riconversione di carattere immobiliare molto molto pesante che presumibilmente i soldi vengano da lì ma non credo tutti perché sono comunque un progetto che ovviamente vedrà vedrà molti anni per cui insomma mi chiedevo ecco è vero che Reggio è Reggio lo dico con invidia essendo io per la rese però insomma ah no decisamente però insomma sarà costato qualcosa ed ero curiosa di capire politicamente dove sono stati trovati e che appunto con che tipo di diciamo di coinvolgimento della volontà e dell'accordo della città se hai una domanda lapidaria però perché poi dobbiamo vieni qua in merito alla collaborazione tra CSM e SERDP per la presa in carico diciamo delle persone che presentavano un'ipotetica doppia diagnosi o comunque che erano a cavallo tra le due cose un po' come ha funzionato se è stata solo la fortuna che lei era responsabile di entrambi perché noi vediamo spesso un rimpallo tra no quello è CSM no quello è SERDP e quindi rimangono terra di nessuno posto prego bene provo a spiegare facendo una piccolissima premessa conosco tutta la storia ho anche tantissimi anni fa lavorato alle reggiane quindi conosco la storia proprio anche dal punto di vista diretto e non ho nessuna implicazione professionale nel progetto che che c'è dietro all'area delle reggiane allora la prima domanda qual è la destinazione di quell'area allora va detto intanto perché è successo prima ho accennato a Mani Pulite era un'azienda le reggiane che era una partecipazione di un'azione statale alla fine degli anni 90 c'è stato insomma un tracollo da tutti i punti di vista finanziario e di governance e quanto altro è stato venduto a un privato che ha espresso quello che molto spesso è la incapacità della cosiddetta della cosiddetta classe dirigente industriale italiana non tutta ovviamente una parte di affrontare i problemi complessi come poteva essere un'azienda del genere che era aveva comunque una storia e dei prodotti molto difficili anche da mantenere aggiornati quindi in pochi anni con tutti i grandi classici del momento tipo obbligazioni private eccetera c'è stato un fallimento il fallimento ha comportato che essendo un paio di banche più il comune di Reggio Emilia i principali creditori del fallimento ci si è ritrovati con una disponibilità di quest'area enorme e vicina alla città in quel momento sono comparse molti enti che volevano fare delle proposte e il più classico dei classici era il grande centro di vendita tipo come può essere il Fidenza Village o altri esempi del genere per cui un enorme punto vendita all'interno della città lì l'amministrazione ha preso la prima decisione era poco necessario la città e poco degno per la storia di quell'area e anche che ci fosse una soluzione del genere per cui la decisione fu con la progressione che ci vorrà magari ci vorrà 90 anni ma deve rimanere legato a un aspetto di innovazione di tecnico di sviluppo tecnologico e così è nato un progetto di Tecnopolo il progetto del Tecnopolo fino a sostanzialmente ha interessato circa un quinto al momento dell'area l'area invece bonificata chiamiamola così dal punto di vista almeno strutturale messa in sicurezza è un po' più ampia è stata aperta anche una dorsale di aria da poche settimane all'interno perché ci si augura di avere uno sviluppo coerente con la storia delle reggiane della città e quindi la scelta è stata questa per cui l'affare del secolo no ci sono degli interessi patrimoniali sì nel senso che questa area è sicuramente un'area di interesse che vedremo che tipo di sviluppo potrà avere ci sarà anche un po' l'universitario la nuova caserma dei vigili del fuoco insomma tutta una serie di attività perché non è stato fatto o perché al momento non si pensa di fare un progetto diciamo così di accoglienza all'interno delle reggiane intanto non coerente con i tempi perché non era possibile realizzarlo in questi termini e poi forse il vero significato è ed è quello che stiamo cercando di fare anche con iniziative culturali mantenere questo pezzo di storia delle reggiane con la presenza di queste persone di questa socialità mantenendone traccia e la storia ma in qualche modo far entrare per entrare sul territorio questi cittadini devono essere cittadini a tutti gli effetti l'accoglienza diffusa a cui facevo riferimento prima vuol dire che sono piccoli nuclei da 3 a 5 persone che quindi vengono a non avere quella forma diciamo così di cameratismo che non ha sempre degli effetti positivi viene anche sulla la vita personale perché ci sono anche persone anziane con delle patologie quindi abbiamo cercato di dare una un'accoglienza come daremmo a persone nostre amiche certamente è stato impegnativo dal punto di vista dell'economico però diciamo che rientrava nel budget del del comune che aveva già fatto degli accantonamenti è un progetto che ha destato abbastanza interesse e sia pur non fatto ancora a livello scientifico ma sia l'università cattolica che il Politecnico di Milano una volta saputi più o meno i numeri il numero delle persone e i soldi impegnati l'hanno definito un affare nel senso che comunque i costi sociali di una grave marginalità sono molto elevati 2.000 euro al giorno un'unità di una un ricovero in unità intensiva 400 euro al giorno un giorno in carcere 400-500 quindi il fatto di aver avuto un'accoglienza così adeguata per le persone ha anche generato meno disagio sulla città grazie Massimo Marco ti ha rubato ti ha lasciato un minuto un minuto solo ti ha rubato due minuti per la risposta allora io brevemente al collega che diceva e ha parzialmente risposto Massimo anche sulla possibilità alternativa devo dire che io all'inizio avevo pensato a qualcosa del genere avevo anche detto ai colleghi e ho detto ma non riusciremo ad accogliere tutti non perché alcuni comunque o non vorranno o non potranno o non ci daranno una risposta compatibile a quella che sono le nostre aspettative avevo pensato a una ve l'avevo anche detto una piccola riserva indiana cioè un piccolo nucleo ex reggiane che a testimonianza rimanesse per le persone che non avrebbero accettato le nostre proposte peraltro personalizzate e pensate una ad una poi in realtà è prevalsa la necessità e possibilità di effettivamente provare fino al massimo delle possibilità territorializzare il disagio che vuol dire piano piano far defluire quella straordinarietà che noi abbiamo affrontato un anno e mezzo fa in un'ordinarietà di accoglienza sociale e sanitaria è il punto in cui stiamo andando non abbiamo completato i percorsi di tutti però quello è l'obiettivo per quanto riguarda l'integrazione CSM CRDP certamente forse un po' come diceva la 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 serena qui davanti la mia persona che dirige sia servizi di del CSM che CRDP magari ha aiutato però io ho avuto un mandato in questo senso io ho sempre lavorato in questo modo cercando un'integrazione tra servizi anche a volte non adusi diciamo a una integrazione collaborazione reciproca con ovviamente i risentimenti dell'uni verso gli altri e degli altri verso gli uni ma io ho sempre lavorato così quando non avevo le responsabilità che ho adesso da diversi anni io andavo in un servizio e mi parlavano malissimo di quel servizio a fianco andavo in quel servizio mi parlavano malissimo del servizio in cui ero stato prima quindi per me non è una cosa particolarmente strana è così ho cercato di fare capire che alla lunga poteva venire una convenienza anche a collaborare con un servizio a fianco che poteva dare ecco vi faccio un esempio e chiudo quando mi sono occupato anni fa del coordinamento sociosanitario su rifiugianti e richiedenti asilo come rappresentante della psichiatria territoriale di Parma perché allora lavoravo a Parma avevo un risentimento da parte dei miei colleghi che mi dicevano ma perché io mi devo occupare da uno che viene che sbarca a Lampedusa io me ne devo occupare a Fidenza a Parma allora io gli facevo questa piccola osservazione gli ho detto senti un po' noi facciamo le guardie notturne diurne e cosa se una notte alle 4 di notte ti scaricano in un pronto soccorso un ragazzo che viene da Lampedusa e cosa che ha tentato di buttarsi sotto il treno tu preferisci non avere nessuno che ti sappia dire qualcosa non sapere dove metterlo oppure avere una cooperativa che magari qualche giorno dopo qualche ora dopo viene e ti dice io lo conosco possiamo quando sta un po' meglio prenderlo e coso magari costruirgli un progetto su fargli anche un tirocinio dargli un qualcosina che lo possa aiutare quando gli dicevo così alcuni miei colleghi dicevano eh però forse conviene ora il SERDP vi dico proprio dal punto di vista io dico quasi ontologico nel senso il SERT è nato come servizio di secondo livello quindi la prima cosa che i miei colleghi ma io rappresento il SERT e quindi quando mi dicono ma noi non facciamo le urgenze noi non andiamo a vedere le persone a caso ci andiamo noi poi dopo vediamo se si può costruire un qualcosa insieme ho avuto un mandato specifico questo dal professor Gareazzi che è il nostro direttore di partimento dall'azienda dalla direzione generale dell'azienda e l'ultima cosa che vi dico per come sono fatto io ma per il mandato che ho avuto nei servizi in cui lavoro ho cercato di mettere delle persone diciamo dal punto di vista dello ruolo importanti come coordinamento a ponte tra il SERT e il CSM io ho alcuni servizi anzi praticamente tutti i servizi in cui il coordinatore lavora metà nel CSM e metà nel SERT o degli assistenti sociali che lavorano metà nel SERT e metà nel CSM e delle psicoterapeute che lavorano metà nel SERT e metà nel CSM spero di aver risposto grazie va bene grazie su questo ci sarebbe da aprire un grande discorso che per noi molto all'ordine del giorno discorso del rapporto tra i due dipartimenti ma non è questa la sede per fare questo ragionamento grazie davvero credo che anche i nostri futuri i tre di Scassant abbiano raccolto molto materiale su cui restituire delle riflessioni da questa esperienza cambiamo completamente scenario andiamo a divertirci nella notte e con Landai Pan e Katia Favilli Katia c'è da qualche parte eccola lì Landai e Katia sono due operatrici della Kat di Firenze che hanno lavorato al progetto Notte di Qualità che è un progetto come dire che si è svolto sul territorio toscano e se non dico male correggetemi con una come dire una partnership una collaborazione anche con l'Anci quindi con l'Associazione dei Comuni Italiani quindi c'è questa questa partnership tra realtà che intervengono nel mondo del divertimento e della notte e i comuni e quindi a voi bene non so se vi divertiremo però quantomeno cercheremo di provare ad apportare un valido contributo alla discussione allora abbiamo per partecipare a questa sessione abbiamo deciso di condividere con voi l'esperienza di Notte di Qualità e nell'intervento cercheremo di rintracciare un po' gli elementi di contesto e di mettere a critica accogliendo l'invito della Summer School il processo con cui il progetto si è sviluppato Notte di Qualità è un progetto che è stato finanziato dalla regione toscana a partire dal 2013 grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana e CNCA Toscana il progetto ha attivato un programma di comunicazione e formazione rivolto alle amministrazioni comunali per la messa in sicurezza e per la corretta gestione del divertimento notturno-giovanile Notte di Qualità Notte di Qualità rinvia a una visione ampia includente che cerca di far incontrare le varie componenti della scena urbana e richiede l'introduzione di misure che possano favorirne appunto questo incontro in questo senso la qualità è intesa come qualità complessiva dei servizi e la salute viene integrata nei contesti e offerta in favore sia dei fruitori che di chi vive l'ambiente circostante l'obiettivo è quello di far sì che la notte sia rappresenti una risorsa e non soltanto un problema a cui i vari singoli attori provano e cercano di dare una risposta parziale in questo senso la qualità è intesa non tanto come risultato ma come processo come processo a cui indirizzare i gestori ed educare i fruitori sia da un punto di vista culturale quindi come di conoscenza per la collettività sia da un punto di vista gestionale invece nel tentativo di realizzare degli incontri tra dell'incontro dei rapporti tra le istituzioni le municipalità i servizi e gli attori economici in campo notte di qualità si rifà a numerose esperienze europee che negli anni abbiamo incontrato e su cui abbiamo svolto delle ricerche documentali che si basano su delle politiche di mediazione di prevenzione di sensibilizzazione in una logica di accordo in una logica di patto da attuare attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione tra i vari soggetti presenti nella scena urbana il progetto è finanziato attraverso una delibera il cui titolo è esattamente per la realizzazione di interventi sulla prevenzione e la riduzione del danno in favore di persone tossico e alcol dipendenti a forte marginalità sociale la delibera ovviamente non l'abbiamo molti se non l'abbiamo scelto noi e questa delibera finanzia oltre a notte di qualità finanzia in parte anche altri servizi di riduzione del danno di outreach tra cui un progetto che penso conosciate in molti qui presenti in sala che è Xtreme e che lavora nei contesti legali e nei contesti di free party il progetto ha a disposizione all'anno 80.000 euro non Xtreme note di qualità 80.000 euro all'anno e si occupa per questo non tanto dell'attivazione di progetti che sono operativi stabilmente nei singoli territori ma si occupa di un programma di comunicazione formazione costituzione di tavoli di rete sperimentazione di dispositivi di intervento e di formazione su queste direzioni vi posso dire brevemente per cercare di non levare spazio poi agli interventi successivi sulla comunicazione abbiamo lavorato a partire dal 2014 2015 all'epoca il materiale che abbiamo prodotto ci sembrava molto innovativo perlomeno per quanto riguarda la nostra organizzazione e anche il panorama regionale diciamo così per stile comunicativo per ricerca grafica e all'oggi quello che rimane però tuttora innovativo è che molti di questi materiali sono stati prodotti con istituzioni e organizzazioni reference per quel tema per cui ad esempio la redazione del materiale sull'accesso al pronto soccorso e sul mix sulle sostanze è stato fatto in collaborazione con il 118 collaborazione interessante a tratti anche faticosa però il materiale sulla prevenzione sulla violenza di genere invece è stato prodotto con un centro antiviolenza che è il centro Artemisia sulla formazione abbiamo lavorato sia con i gestori istituendo dei corsi delle sessioni di formazione sulla gestione dell'aggressività sulla descalation sulle sostanze e sulla somministrazione consapevole abbiamo lavorato con gli enti del terzo settore facendo delle formazioni a operatori sociali laddove il territorio aveva a disposizione degli enti del terzo settore disponibili a lavorare su questo tema e un'amministrazione comunale anche disponibile a mettere a disposizione le risorse che altro lavoro di rete il lavoro di rete sul lavoro di rete una cosa ci terrei a dirlo l'esperienza su un atto di qualità ci ha permesso di sviluppare delle relazioni che poi hanno attivato anche su altri contesti o in altre occasioni delle relazioni più facilmente delle sinergie più facilmente per esempio per il rave di Tavolaia il lavoro di relazione che avevamo fatto anche con Anci ci ha reso più facile riuscire ad attivare il sindaco la questura e di attivarli anche nel riconoscimento di quali erano i ruoli reciproci e nel riconoscimento di quello che è il nostro il nostro lavoro sui dispositivi non so se dilungarmi un pochettino abbiamo lavorato sul dispositivo di mediazione artistica che è un dispositivo che abbiamo mutuato in parte riadattandolo al contesto fiorentino italiano dei Pierrot della Noi di Parigi e quindi un lavoro sulla prossimità sull'arte partendo dalla domanda su che cosa lavorando appunto sull'impatto del rumore quindi il rumore antropico partendo dalla domanda su che cosa effettivamente genera il silenzio e cercando di esplorare le risposte in termini di bellezza stupore e non in termini di messaggi di da scalici l'ultima cosa su cui vorrei puntare l'attenzione è sul fatto che questo progetto è un progetto che lavora in maniera modulare e questa è una scelta che è stata fatta sin dall'inizio un po' in linea con quanto si è detto anche in questi giorni cioè sulla questione che ciò che succede nelle grandi città e ciò che succede in quelle piccole non è soltanto un problema di scala ma è una questione di complessità per cui le azioni che venivano che vengono possono venire attivate sono adottabili e adattabili dai territori per cui si parte sempre da un momento di ascolto da un lavoro di raccolto insomma delle criticità che sono presenti sul territorio questo è sì è stato sì un punto di forza ma d'altra parte ha rappresentato anche una criticità perché restituire un progetto che è multiforme a volte è stato molto difficile soprattutto nel rapporto con la committenza perché è stato difficile dare un'identità nitida a un progetto modulare sì infatti quando accendi classico proprio perfetto sì infatti quando ci siamo un po' interrogati su come rendere in pochissimo tempo un progetto così complesso come Notti di Qualità e soprattutto parlare di quella che è la criticità di Notti di Qualità ci siamo permessi di lanciarci in una metafora poetica perché l'immagine è un po' questa immaginate quell'oggetto bellissimo che avete in casa o che tutti abbiamo in casa un oggetto di vetro a cui uno tiene particolarmente ora nel mio caso era un bicchiere e che a un certo punto per sbaglio quel bicchiere cade a terra e si frantuma e lo sapete immagino che gli oggetti di vetro hanno questa caratteristica terribile che appena toccano terra nel punto giusto si frantumano in mille pezzi di solito accade alle 8 la mattina quando uno deve uscire di casa presto cosa succede che in quel momento tutta una serie di frammenti di schegge come appunto è il titolo del nostro intervento si vanno a inserire nel divano si vanno a inserire magari tra il legno tra le pieghe del legno del tavolo quindi uno pulisce tutto magari hai animali in casa per cui passi anche l'aspirapolvere sei sicuro poi magari due settimane dopo ti metti sul divano passi una mano e ti arriva un dolore incredibile al dito e è appunto una di quelle schegge di vetro che era rimasta lì e che era impossibile da togliere per ovvi motivi e ti si conficca nella carne e lì rimane però come dire non puoi pensare che è colpa di quel becchiere spaccato due settimane prima no? non ci pensi lì per lì ecco notte di qualità è successo così cioè noi abbiamo creato dei dispositivi innovativi sperimentali quindi non vi saprei dire quanto poi effettivamente l'impatto sia stato un impatto la valutazione proprio dell'impatto e già questa è una prima criticità però erano dispositivi sperimentali che hanno messo in rete competenze artistiche io ho iniziato a lavorare con Catt perché vengo dal mondo del teatro hanno messo insieme artisti di strada in alcuni casi hanno messo insieme professionisti della comunicazione copy grafici progetti che potevano essere ripetibili soprattutto nella metodologia del creare all'interno dei territori per un governo sociale dei territori di quello che non è un fenomeno casuale nato all'improvviso ops come si diceva stamani di Roma ops improvvisamente Roma era una città che aveva delle criticità ops la movida crea dei problemi non può non è così quindi questi progetti si sono frantumati a terra come quel bicchiere di vetro frantumati su cosa sono caduti su quelle che sono le criticità che su cui tutti penso noi abbiamo a che fare in diversi servizi la mancanza di tempo quindi un servizio che va verso un governo sociale chiaramente che cosa cosa deve avere tempo per vedere se quella necessità di di autogestione di trasmissione culturale arriva effettivamente agli attori interessati la mancanza di una volontà di prendersi carico di un governo di un fenomeno che non sia solo in una chiave di controllo dall'alto su questo i progetti si sono frantumati non è una lamentazio solita non è dire oddio noi siamo bravissimi e tutto il resto del mondo è cattivo e brutto ma se ce lo permettessero noi saremo bravissimi no sono elementi proprio di criticità su cui penso che sui progetti della notte si possa creare delle riflessioni però poi succede che abbiamo deciso di fare un focus su una città a caso del territorio e non non abbiamo provato a fare una sintesi dei vari processi la città a caso di cui vi parliamo è Firenze Firenze abbiamo provato a prendere in esame da un punto di vista storico l'intervento a partire dal 2014 ad oggi e abbiamo identificato un momento di rottura nel 2018 dal 2014 al 2018 c'è stata una collaborazione direi più che proficua gli assessori il sindaco aprivano i convegni partecipavano a tutti i convegni pubblici che proponevamo era stato nominato il consigliere speciale per la notte che per quanto fosse speciale quindi senza portafoglio era comunque l'avevamo comunque interpretata come un'apertura nei confronti delle esperienze europee alle quali ci stavamo ispirando in particolar modo Parigi era stato istituito anche un ufficio comunale che si chiamava Città Sicura che collaborava veramente quasi quotidianamente con noi che riusciva ad attivare vari settori del comune differenti che solitamente non si parlavano partecipava anche a delle riunioni con la polizia municipale e tra il 2017 e il 2018 viene finanzato un progetto che si chiama Firenze Vivibile Firenze Vivibile straordinariamente recepisce praticamente in maniera sostanziale tutte le indicazioni che avevamo che avevamo incluso dentro il progetto notte di qualità quindi c'erano gli operatori gli steward che non erano interpretati come dei buttafuori ma come degli operatori sociali c'erano gli operatori sociali dentro i reparti di emergenza urgenza nei fine settimana c'era l'auto urbana fissa tutti i weekend e c'erano gli eventi buone prassi che è uno dei dispositivi che avevamo che avevamo incluso dentro il progetto nel 2018 invece a un certo punto questa cosa incomincia a sgretolarsi a sgretolarsi mano a mano l'ufficio del città sicura viene un po' smantellato vengono smistati i funzionari il consigliere della notte sparisce la delega sulla notte viaggia un po' poco chiaramente perlomeno ai nostri occhi sui vari assessorati per approdare alla fine oggi all'assessorato alle politiche giovanili però dal 2018 ad oggi comunque questi servizi piano piano comunque vengono integrati in altri in altri servizi in cui la notte non è centrale ma è parte integrante quindi di fatto cosa succede che queste schegge quindi questi 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 progetti che sopravvivono al frantumamento della cornice di sistema secondo noi testimoniano effettivamente l'esistenza di una volontà di lavorare anche in direzione del governo sociale dei fenomeni quello che viene meno però quella che viene sottratta è la capacità politica di assumersene la responsabilità e il terreno su cui ci rendiamo conto che si gioca in maniera più delicata è uno degli aspetti su cui dall'inizio avevamo riconosciuto un grosso valore e portato che era la questione culturale quindi la comunicazione quindi di fatto per fare un esempio noi durante il periodo di pandemia avevamo lavorato molto alla ricerca di cui vi ha parlato Stefano ieri ma anche accanto a questa ricerca l'avevamo integrata con dei metodi creativi quindi video interviste audio interviste nelle varie epoche sia nel periodo di chiusura più stretta sia nel periodo degli allentamenti perché per noi era fondamentale capire con più precisione che cosa stava succedendo e qual era il mutamento del rapporto tra i giovani non solo i giovani ma in questo caso noi ci eravamo puntati sui ragazzi più giovani e il loro rapporto con gli spazi urbani ebbene tutta questa ricerca che era stata concordata con i referenti sia tecnici che politici del comune non abbiamo mai ricevuto l'autorizzazione a diffonderla né come materiale di studio né come materiale di comunicazione provandoci a chiedere che cos'è che è successo nel 2018 la risposta è un po' ipotetica perché il confronto è stato piuttosto evasivo con i nostri referenti e il primo elemento è che nel 2018 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha prodotto una sentenza a Valencia in cui ha obbligato il comune di Valencia a pagare un indennizio a uno degli abitanti del centro storico che era particolarmente danneggiato dal rumore antropico generato dalla Movida al fenomeno e quindi si incomincia a riconoscere una responsabilità comunale e quindi è un elemento legale ed economico soprattutto dei comuni rispetto a questo fenomeno alla sentenza di Valencia segue poi la sentenza un'analoga sentenza a Brescia e poi negli anni successivi anche a Torino a maniera anche più massiccia e l'altro elemento che abbiamo individuato è l'introduzione di nuovi strumenti a livello nazionale come il DASP urbano e quindi con il decreto Minniti nel 2017 decreto Salvini nel 2018 decreto Lamorgese nel 2020 che ne ampliano la platea su cui è possibile applicarlo e ampliano anche la platea dei luoghi definibili come zona rossa quindi per noi l'esistenza di queste schegge è comunque testimonianza del fatto che ai nostri interventi viene riconosciuta comunque un'utilità e un'efficacia perché ci sono esistono ma li viene sottratta questa cornice di senso e nel mentre la città li viene tolto insomma lo spazio di visibilità e nel mentre vengono invece promosse e assunte come politiche le politiche della città sul fenomeno grazie al lavoro appunto di visibilità grosso le ordinanze che chiudono le piazze i cordoli che delimitano i pochi spazi ormai rimasti nella città in cui viveva una socialità spontanea vengono definite le piazze a numero chiuso con i signori che contano la gente all'ingresso a un certo punto viene data proprio come unico modo di accesso alle piazze l'accesso ai tavolini dei bar quindi da molti da molte componenti della città questa cosa è stata interpretata come una precisa volontà di disegnare una città che definisce come legittimo solo l'uso commerciale e che definisce tutti gli altri usi come non legittimi e non assolutamente associabili con un concetto di sicurezza o di salute concludo dicendo che se ad un occhio rapido il lavoro sulla notte può essere considerato un lavoro superfluo soprattutto a fronte magari di altri temi che le nostre organizzazioni affrontano in cui la simmetria di potere le disuguaglianze la violenza sono temi molto più evidenti secondo noi invece è possibile considerare le politiche che una città affronta e mette in campo sulla notte come una lente di analisi per valutarne il grado di inclusività e la traduzione in altre parole di quello che può essere visto di quello che può essere di quello che può attraversare le nostre strade e quello che invece non lo può fare di quello che deve stare nelle pieghe nascoste della città e quello che invece può emergere e diventare quindi parte sempre per citare la nostra affezionata serie televisiva Stranger Things Mondo di sotto grazie molto è molto interessante abbiamo un'immagine un po' di una lotta Davide e Golia in questa no effettivamente cioè quello che ci raccontate è da un lato un progetto di notte di qualità un progetto di qualità insomma che ha una visione oltre che a degli strumenti di lavoro ha una visione strategica e dall'altro la risposta securitaria che ha come dire un qui e ora forse capace anche non credo di risolvere le questioni ma per esempio di tranquillizzare l'opinione pubblica no e quindi come dire ci date l'idea di un grande lavoro fatto e di una strada molto molto impervia molto impervia e allora anche qui ho due o tre domande se volete rispetto a quello che ci hanno raccontato io ne ho una mi permetto di usare il microfono acceso che ho davanti su questo discorso c'è una domanda di fondo di chi è lo spazio pubblico a questo punto che è una questione che riguarda la cittadinanza insomma di chi è la città e di chi è lo spazio pubblico da un lato e quindi è una questione che va che diventa fortemente immediatamente politica mi viene da dire e che ci parla di uno totale sbilanciamento tra interessi di gruppi di cittadini diversi e quindi è una questione come dire di questo tipo l'altra considerazione che mi viene perché mi è venuto in mente come dire un decalogo che abbiamo riportato anche nel fascicolo del non si chiama sindaco della notte ma non mi ricordo ha un altro nome della città di Amsterdam che fosse stata la prima città che ha cercato una quadra su questo in cui però gli attori economici sono importanti cioè non sono solo quelli che ci guadagnano e quindi occupano lo spazio dove tu non puoi entrare se non hai soldi ma gli attori economici hanno anche un ruolo positivo in quel caso perché oltre a fare i propri interessi e questo ci sta come dire sostengono anche una battaglia in cui dicono che l'economia della notte variamente intesa è un pezzo importante di una città non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista culturale e di quello che la città offre alla sua cittadinanza in generale questo lo dico perché spesso penso anche alla realtà di Torino non danno fastidio ai bravi cittadini solo i ragazzi che non accedono ai locali danno fastidio anche ai locali nel senso che il rumore si produce anche laddove c'è gente che paga seduta a un tavolino quindi come dire il discorso è aperto quindi una riflessione che mi verrebbe da fare è questi attori economici oltre a fare i propri interessi lasciando fuori fette di popolazione potrebbero invece essere anche dei produttori di un significato diverso di come viene vista la notte proprio per far sì che non venga percepita sempre solo come problema ma anche come un aspetto positivo della vita di una città no non lo so a che punto siamo su questo mi verrebbe da chiedere allora assolutamente sì infatti in altre città europee è così ad esempio mi viene in mente l'esperienza di Berlino con Club Beh Club Commission Club Commission ecco mi sfuggiva il nome ora ma anche credo quello che sta succedendo a Torino con tutta l'esperienza di Club Futuro e che fare nelle città forse più grosse dove c'è un tessuto di club che lavora anche in termini culturali di associazionismo che ha un'esperienza radicata e storica su questo questo è possibile Firenze per dirne una il più storico club che esiste non so dagli anni 70 io non sono di Firenze ma penso che negli anni 70 già esistesse la FLOG ha chiuso per cui questo è un po' quello che offre anche il territorio mentre durante la pandemia noi abbiamo intervistato anche i gestori dei locali e anche questo non è stato possibile trasmettere ma loro per la prima volta raccontavano anche di sentirsi uno stigma addosso, questo ce lo raccontavano anche i gestori di Follonica che successivamente alla prima pausa estiva in cui si poteva finalmente aprire e Follonica è una piccola città dove solitamente ci andavano famiglie quindi la vita notturna stava a zero durante la pandemia quando i ragazzi giovani non potevano più andare all'estero, tantissimi si sono riversati sulla costa toscana e quindi il cambiamento è avvenuto e molti gestori si dicevano stupiti abbastanza anche scioccati si sentivano discriminati dalla popolazione stigmatizzati perché il loro lavoro non era considerato un lavoro degno grazie ci sono altre domande? considerazioni? se non domande? a posto così? Pino, via mi vanto di cose che ho discusso con Bertoletti allora Firenze, io vengo da Venezia e sono due città con una forte connotazione turistica nel quale almeno parlo per Venezia quasi tutto il funzionamento della città della città storica sapete, Venezia è un'isola per cui si divide in città storica e terraferma quasi tutto il funzionamento della città storica si sta organizzando attorno all'economia turistica pensavo che tutto anche l'attivismo il protagonismo di alcune città degli operatori economici della notte ha a che fare anche con la loro provenienza culturale che appartiene forse a quel mondo lì perché se penso agli operatori dei baretti di Mestre di Venezia della città storica questi oramai sono pienamente soddisfatti economicamente dal flusso economico generato dall'altra economia parallela tant'è che per esempio Venezia non è una città dove vieni a divertirti vieni guardi il museo alle 10 e mezza 11 di sera già non vai più a bere quindi come quanto influisce anche come dire la storia culturale della città e come si è impiantata una certa economia e da quali culture proviene per aprire spazi di negoziazione di questo tipo domanda difficile domanda difficile che lascio alla Fiorentina doc perché io in realtà sono milanesi io c'è triolini allora è una riflessione che chiaramente mi richiama un punto di vista personale in questo momento chiaramente come se immaginiamoci di essere a bere uno spritz a Venezia a parlarne ok è chiaro che Firenze da quando io mi ricordo è impossibile girare per il centro storico nel senso che Firenze da quando io mi ricordo ha una sorta di sì in questo caso di invasione ed è vero anche che però per esempio da adolescente io andavo in città il pomeriggio a fare lo struscio in via Calzaioli a 12-13 anni cioè il centro storico per un lungo periodo è rimasto comunque abitato dai cittadini magari non abitato diciamo il processo in cui si parla di sgomberi di case popolari di vendita di gentrificazione in maniera importante già è iniziato negli anni 90 in maniera significativa però rimaneva comunque in alcune zone in alcuni quartieri un utilizzo urbano sicuramente legato a una cittadinanza che portava a una sua cultura parallela perché il fiorentino chi è stato a Firenze lo sa mediamente scorbutico gli stanno assolutamente antipaticissimi tutti i turisti che tutti i giorni arrivano è la persona di persone meno affabili da questo di punto sulla faccia della terra quindi culturalmente ha assimilato la questione di essere una città turistica quasi in una forma di difesa mi verrebbe da dire che poi questa cosa si traduce in un immaginario quasi iconografico del fiorentino medio però questa cosa succede e per esempio l'ho trovata molto diversa a Venezia Venezia è molto più affabile dal mio punto di vista quindi anche questo non lo so però mi colpiva questa cosa però negli ultimi vent'anni e negli ultimi dieci in maniera significativa c'è stato il fenomeno del turismo mordi e fuggi quindi quel turismo di Pullman sotto 35 anni che scaricava le persone i famosi giri contichi che qualcuno forse saprà e conoscerà che sono proprio turisti che vengono organizzati dall'Australia e dall'America dove si fanno per un mese l'Europa a girare le città principali magari ti fermi un giorno quindi da un punto di vista economico quello che vai a come dire sostenere sono quei tre o quattro posti dove tendenzialmente c'è anche una qualità scarsissima delle cose che mangi e bevi è proprio un mordi e fuggi da questo punto di vista e quello ha generato un aumento esponenziale della presenza dei turisti in città creando in qualche modo una riduzione sempre di più di quella resistenza fiorentina è in questo momento quello che io vedo veramente una forte deculturalizzazione cioè Firenze in qualche modo sta diventando una zona senza identità e quindi anche quando vai a confrontarti con gli attori come i gestori non c'è un piano un territorio comune che può essere l'interesse nei confronti della città perché nel senso in teoria a livello proprio culturale anche pensate solo al fatto che io potrei entrare in qualunque posto e andare in bagno e nessuno mi potrebbe dire niente questo si parla del fatto che quando nascevano i locali si sapeva te stai sfruttando il territorio pubblico quindi devi rendere qualcosa c'era in certo qual modo una concertazione fra gli attori oggi questa cosa è impensabile perché di fatto non c'è un territorio di cura e di bellezza comune c'è un territorio di difesa e quindi poi di interesse sì i gestori quando iniziano a entrare nella logia e anche loro possono essere dei protagonisti attivi allora sì può essere ma è un processo che riparte da zero cioè quello che vediamo è che c'è un processo di velocizzazione di un turismo velocissimo di un aumento della produzione dei rifiuti banalmente e d'altra parte una mancante un tornare indietro culturalmente e quindi una necessità di un tempo per ricostruire un substrato culturale in una città che si sta svuotando questo è un po' l'immaginario va bene grazie ragazzi c'è ancora una rapidissima però perché abbiamo Napoli che ci attende io trovo che questa discussione è molto importante molto interessante volevo dire una cosa ti presenti così sono Federica Palestino sono una docente di urbanistica all'università Federico II di Napoli allora c'erano una volta le politiche dei tempi della città negli anni 90 nacque questa questa roba le politiche dei tempi poi sono scomparse queste politiche la notte è una parte delle politiche dei tempi se per esempio la dico così proprio per essere breve breve poi ne parliamo domani magari se per esempio le università aprissero le biblioteche di notte la storia cambia perché la città te la riprendi tu studente che vivi in quella città quindi ci sono da invitare degli altri attori ai tavoli credo io e non sono non sono i commercianti capito anche magari i commercianti grazie interessante questa cosa Enrico siamo in ritardissimo ci metti un minuto e mezzo se ci metti un minuto e mezzo sì l'idea di aprire l'università alla notte è bellissimo ovviamente io mi occupo di notte però questo processo si chiama diurnificazione ossia il giorno che invade sempre di più la notte ed è un problema la notte è un territorio che ha delle caratteristiche specifiche che ce la fa adorare socialmente perché è uno spazio libero in cui di libertà in cui certi nemmeno di controllo che anche l'università produce o i ristoranti o quant'altro è meno forte nella società occidentale dagli anni 90 ad oggi c'è sempre meno notte c'è sempre più giorno quello che dovremmo fare noi è difendere invece la notte allora vedete molto interessanti i punti le prospettive sono molto molto interessanti liberare la notte va bene grazie molte ultimo round Luigi De Matteis ci porta a Napoli e tra una ventina di minuti avremo anche una pausa quindi tenete duro perché scenario napoletano ci fa entrare in un'altra in un'altra scena ancora no 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 ora ascoltavo scusate sforzo di attenzione ascoltavo le colleghe ascoltavo anche Pino e pensavo un attimo con perplessità la città la mia città che si sta trasformando in questa in questa direzione e con diciamo avete introdotto un altro elemento di crisi importante in quello che io oggi dirò perché effettivamente io amo molto la mia città e se la direzione del diciamo del processo verso diciamo la turistificazione della città tende poi verso quello chiaramente in qualche maniera è un dato ulteriore di grossa preoccupazione no però io sono qua per parlare di altro sono vecchio voi siete giovani questo mi fa no lui no e quindi porto porto un po' un'esperienza totalmente diversa e devo dire questa mi interessa riflettevo prima mentre ascoltavo anche ieri mentre ascoltavo le persone che parlavano ripensavo anche un po' al dibattito che c'è all'interno della mia echipa tra un'anima vecchia diciamo così e un'anima giovane dell'equipa premessa io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto a Napoli del del lavoro che abbiamo svolto ormai quasi in vent'anni anche grazie soprattutto grazie a Stefano e Stefano ci ha seguiti si conosce bene quello che abbiamo fatto in questi in questi vent'anni però devo dire siamo in un momento di crisi quando quando Susanna mi ha invitato quando mi sono confrontato con Susanna per individuare un po' i temi del nostro incontro di oggi io sono entrato ancora più in crisi perché ci sono tanti motivi tanti motivi diversi sicuramente poi la pandemia ha contribuito sicuramente appunto sta cambiando la nostra equipe sta cambiando quindi in qualche maniera gli attori sta cambiando il mio ruolo all'interno dell'equipe è cambiato notevolmente il mio ruolo all'interno dell'equipe quindi i motivi di crisi sono tanti io partirei però da una cosa che diceva Claudio Cipitelli ieri ieri Claudio Cipitelli raccontava di Bourgois e di come Bourgois interpretava in qualche maniera il fenomeno dello spaccio nell'East Harlem di New York come in effetti un tentativo di resistenza rispetto a un mercato del lavoro che tendeva a mortificare i portoricani e diciamo e anche coloro coloro i quali non appartenevano direttamente alla classe bianca però Bourgois dice anche un'altra cosa poi la posizione di Bourgois è molto ambivalente molto ambigua rispetto a questa io chiaramente mi occupo di senza dimora premessa non l'ho detto ma non ti ho presentato non l'ho detto ma chiaramente quindi è stato a lungo per anni responsabile di drop-in unità mobile ASL Napoli 1 occupandosi delle popolazioni più marginalizzate quindi chiaramente la mia diciamo il mio punto d'osservazione è questo sicuramente è molto diverso dal punto d'osservazione di chi si occupa della notte o di altri contesti di consumo non posso e terrò questo punto d'osservazione come mio punto d'osservazione inevitabilmente quindi Bourgois diceva sostanzialmente io per caso me le ero proprio segnate prima del tuo intervento me le ero segnate proprio queste parole lui diceva fuori fuori da ogni timore virtuoso o politicamente corretto di imporre al povero un'immagine negativa mi rifiuto di ignorare o minimizzare la miseria sociale cui sono stato testimone perché mi renderei complice dell'oppressione cioè Bourgois in questa frase in qualche maniera mette insieme il rischio della stigmatizzazione che c'è nel nel lavorare e nell'occuparsi nel narrare la storia delle persone tra virgolette povere marginate e così via con la necessità poi pratica concreta che c'è ogni giorno data dall'emergenza che dalle emergenze che che nascono nel nostro nel nostro lavoro e in effetti questo è proprio uno dei temi che sta attraversando la nostra la nostra equip soprattutto dopo diciamo così la fase la fase pandemica la fase più acuta della crisi pandemica in cui tra poco dirò un po' quello che è successo nella nostra nella nostra città questo però all'interno dell'equip ci sta imponendo in qualche modo di riconsiderare un po' le le nostre pratiche e di capire se non altro quanto le nostre pratiche contribuiscono a quel processo stamattina penso ne parlasse non ricordo chi Farinetti mi sembra ne parlava dell'attribuzione di identità univoche alle persone più marginali in particolare questo processo chiaramente per un giovane è molto difficile cioè molto più difficile attribuire a un giovane un'identità unica a una persona che magari vive da 20 o 30 anni per la strada che vive in condizioni di estrema marginalità questa attribuzione anche attraverso le nostre pratiche di una identità unica e quindi di una gabbia in qualche maniera nella quale la persona poi si trova a dover muoversi è qualche cosa di cui dobbiamo tener conto anche proprio nelle nostre pratiche e dobbiamo forse riconsiderare quello che abbiamo fatto in tutti questi anni con la nostra unità di strada e poi col drop-in anche e soprattutto alla luce di questo io non voglio ora evocare i fantasmi di Foucault o gli altri però in qualche maniera chiaramente tutta la politica della governance rispetto ai fenomeni ai fenomeni della marginalità in particolare richiama la problematica della biopolitica e questo quindi in qualche maniera non possiamo ignorarlo chiaramente non possiamo ignorarlo anche nelle nostre prassi allora il tema un po' della riflessione che oggi mi proponevo di fare sarò molto breve perché un po' siamo stanchi io sono stanco c'è poco tempo quindi sarò molto breve il tema un po' della riflessione che mi proponevo di fare era un po' questo insomma non c'è una soluzione chiaramente ma inevitabilmente è un dato problematico con il quale ci dobbiamo confrontare dicevo prima c'è una cosa dicevo prima che la pandemia in qualche maniera ha generato una situazione estremamente emergenziale è vero anche stamattina diceva diceva Petrilli Enrico Petrilli diceva del concetto di città io ne capisco poco non so bene però c'è un contesto urbano nel quale noi lavoriamo e col quale ci confrontiamo tutti i giorni io so che c'è una relazione dell'Umpa che sarebbe il fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione che dice che i processi di urbanizzazione porteranno già nel 2030 alla luce di quello che diceva Petrilli non lo so leggere questo dato però già nel 2030 porterà circa l'80% della popolazione in occidente parliamo dell'occidente dell'80% circa della popolazione urbanizzata a fronte del 20% che viverà nelle campagne che abiterà ancora le campagne o i piccolissimi centri e sempre in questo in questo rapporto l'Umpa afferma che questo chiaramente si accompagnerà a un processo di impoverimento della popolazione sempre maggiore addirittura si si ipotizza che ogni tre nuovi diciamo così ogni tre nuovi cittadini due abiteranno la diciamo così la soglia della povertà saranno a cavallo della soglia della povertà chiaramente questo ci deve già in qualche maniera mettere le previsioni sono quelle che sono però questo ci deve mettere un attimino in allarme rispetto a quelli che possono essere i processi diciamo che i processi di di emarginazione di segregazione che nelle città saranno sempre più intensi più pressanti e quando parlo dei processi di emarginazione di segregazione io chiaramente non è che mi riferisco solo ai topos della città ma mi riferisco prima di tutto proprio a quella dimensione della soggettivazione delle persone quindi in qualche maniera all'assunzione di un'identità in qualche modo e questi processi riguarderanno inevitabilmente tutte le ancora più tutte le fasce più deboli della popolazione quindi anche senza dimora e quindi anche i consumatori di strada che non io perché nel 2030 per fortuna non lavorerò più ma i colleghi che lavorano oggi nella mia equip si troveranno a dover affrontare come no non ho capito no io non ce la vorrei più nel 2030 sicuro allora qual è il problema che volevo un attimino focalizzare i nostri interventi sono comunque spesso mirati in qualche maniera inevitabilmente i nostri servizi sono mirati alle persone che usano sostanze già questo in qualche modo io mi chiedo mi sto chiedendo guardate durante la pandemia al nostro servizio al drop in sono arrivate persone di tutti i tipi non sono arrivate soltanto le persone che usano sostanze sono arrivate questa mattina mi confrontavo con Mauro non c'è adesso Mauro forse anche al drop in a Roma credo un po' tutti coloro i quali lavorano nel drop in è un po' la storia di tutti i drop in però nel periodo della pandemia questa cosa è diventata ancora più evidente arrivano persone anziane arrivano tra virgolette i matti arrivano tra virgolette i poveri tra virgolette semplicemente coloro i quali hanno bisogno di una doccia o di un passo insomma arriva tutta quella fascia di persone che sono diciamo così che vivono ai margini della città spesso con Stefano ce lo chiediamo cosa dobbiamo fare poi il nostro target sono le persone che usano sostanze ma queste sono persone in qualche maniera che ci chiedono e portano un problema che se ragioniamo è la città che pone questo problema è il modello di sviluppo lo sa bene inutile arrivare poi magari ai macrosistemi ma sicuramente è la città è l'organizzazione della città che pone questi problemi allora dare risposte frammentate come dire è il primo problema che è il primo focus che voglio dire che voglio trarre da questo mio intervento sarà brevissimo lo ripeto ma dare risposte frammentate non significa poi tra virgolette frammentare le frammentare ancora di più le persone immaginare di dare risposte soltanto rispetto anche anche parlando dei contesti e io non è che mi riferisco alle persone anche i contesti se noi pensiamo ai contesti come i contesti di coloro che utilizzano sostanze stiamo facendo teoricamente la stessa operazione stiamo in qualche maniera attribuendo un minus inevitabilmente un minus al di là delle nostre intenzioni al di là delle diciamo di tutte queste sciocche io sono psicologo ma l'empatia per me è una stupidaggine mai vista al di là di tutte queste grandi diciamo no una stupidaggine dal punto di vista della prassi del lavoro non esiste però come dire stiamo perso un attimo il filo la frammentazione e al di là quindi di tutta la nostra le nostre buone intenzioni in qualche modo inevitabilmente cadiamo in un modello che è medico psico assistenziale non so come altro dirlo in questo periodo di grossissima emergenza a noi al nostro servizio tra i vecchi matti giovani i familiari dei matti e tutti gli altri sono arrivati poi sono sono poi arrivate tantissime persone che non avevano la possibilità di rivolgersi ad altri servizi altri servizi che a causa della pandemia avevano chiuso avevano innalzato barriere insomma insormontabili che a causa della mancanza di risorse non avevano la possibilità di dare risposte allora rispetto a questo noi che facciamo ci poniamo quella cosa che diceva burguano interveniamo narriamo tra virgolette interveniamo narriamo rispetto a questi bisogni o cerchiamo in qualche maniera di lavorare e o diciamo forse cerchiamo di lavorare in un senso critico rispetto a questa all'emergenza di queste domande perché altrimenti diventiamo noi nella nostra equip questo discorso spesso lo stiamo facendo in qualche modo negli ultimi anno e mezzo due anni per una serie di vicende stiamo rischiando di snaturare proprio la mission del servizio io non so se questa cosa poi magari sarebbe interessante confrontarsi con gli altri con gli altri servizi su questo tema dopo la pandemia quello che è successo noi non anche i risultati della ricerca in qualche maniera non sono totalmente in linea con quello che noi abbiamo osservato sul nostro territorio in particolare rispetto a senza dimora dove un po' quello che si diceva anche stati nei fattori di contesto poi sono stati predominanti rispetto alla possibilità di autoregolazione la ricerca diceva in effetti che non ci sono stati grossi diciamo differenze grossi problemi nella capacità delle persone di autoregolazione però i fattori sociali contano notevolmente e questo e i fattori di contesto anche contano notevolmente e questo credo che sia in qualche maniera un elemento che ancora di più se mai ce ne fosse bisogno ci ci deve indirizzare verso quella che diciamo così un'azione di riduzione del danno lavorare sui contesti lavorare in qualche maniera sulla mediazione dice una cosa molto bella Benetto Saraceno diceva una frase che mi è piaciuta moltissimo dice la prigione istituzionale non è qualcosa che c'è o non c'è ma è un processo di autoriproduzione permanente che comincia nel momento stesso in cui creiamo qualcosa costruiamo un nuovo servizio impariamo un nuovo sapere costruiamo un progetto e così come Penelope instancabili dobbiamo costruire e decostruire accettando la sfida dell'incertezza che ha in sé tutta l'ansia dell'incerto ma anche tutta la ricchezza della trasformazione dell'innovazione io credo che questo forse non dobbiamo pensare scoltanto io penso che domani sarà uno dei temi che sicuramente saranno affrontati anche nell'incontro con gli assessori non possiamo pensare semplicemente alla creazione dei servizi alla messa in atto di progetti per la governanza dei fenomeni in cui siamo implicati ma dobbiamo inevitabilmente fare un lavoro di mediazione con i territori noi abbiamo tentato qualche tempo fa penso a cavallo delle due crisi delle due crisi dei due lockdown di fare un lavoro su un territorio di una piazza su una piazza di Napoli coinvolgendo i commercianti coinvolgendo le signore che di notte perché in quel periodo uscivamo anche di notte avevamo la possibilità anche di uscire di notte le persone che portavano i cani nella piazza per farli passeggiare spesso signore anziane ed è una piazza frequentata da persone per lo più extracomunitarie che fanno uso per lo più di alcol non solo ma per lo più di alcol e che creano dei grandi diciamo così momenti di tensione all'interno soprattutto a una certa ora della sera e della notte abbiamo tentato di fare un lavoro di mediazione con il territorio con tutte le persone abbiamo poi trovato nel momento in cui abbiamo cercato di trovare un'interlocuzione con la municipalità abbiamo trovato delle grandi difficoltà in questo senso poi ci siamo arresi è venuta la seconda ondata della pandemia e ci siamo fermati lì però io credo che ed è quello che la cosa sulla quale io sto in qualche maniera lavorando molto con la mia equipe non è più la mia equipe con l'equipe ex mia che in qualche maniera forse dobbiamo cominciare veramente ad come dire ad assumere lo diceva anche Susanna prima in qualche modo quella quella quell'aspetto politico del nostro lavoro che altrimenti se non rischia di diventare soltanto una prassi di ulteriore di ulteriore segregazione di ulteriore stigmatizzazione delle persone ripeto io parto rispetto alla popolazione parlo della popolazione che con la quale noi lavoriamo del target con le persone con le quali noi lavoriamo che sono persone con scarsissime risorse che chiaramente in cui i fattori stamattina lo si diceva ancora no quelli che sono diciamo le determinanti sociali della possibilità di autoregolazione anche dei consumi ancora di più quanto quindi diciamo così in una popolazione che ha una debolezza strutturale una debolezza di contrattazione e una debolezza anche identitaria perché non dobbiamo avere paura a dire che queste persone in qualche maniera portano con loro una sì è vero però però sono persone che hanno comunque una definizione soggettiva ben difficile da mettere in crisi e quindi queste persone inevitabilmente sono influenzate maggiormente dal contesto rispetto ai ragazzi che hanno la possibilità di vivere come diceva appunto Farnetti Farnetti stamattina diceva una una moltiplicità di identità e di poter in qualche modo come ci auguriamo che tutti quanti noi possiamo vivere vari aspetti di noi stessi no? beh ho lanciato là soltanto poi se vogliamo entrare nello spiego non so se c'è il tempo nello specifico di quello che è successo durante la pandemia a Napoli e di quelle che sono state poi le però non so se c'è il tempo un accenno ma un accenno vuol dire tre minuti no anche due anche due fantastico ma io sono molto stanco quindi voglio di essere molto breve il mercato è cambiato il mercato delle sostanze è cambiato molto durante la pandemia ed è diciamo così quello che abbiamo potuto osservare al di là del diciamo così dell'uso massiccio di di alcol di rivotril anche di metadone insomma di tutte le sostanze di tutte le sostanze tra virgolette legali quello che abbiamo potuto notare è che invece il la cocaina e in particolare il crack hanno assunto invece un carattere predominante come sostanze di utilizzo da parte delle popolazioni della popolazione senza dimora in particolare poi la cocaina noi non abbiamo non abbiamo la possibilità di analizzare le sostanze ma da quello che abbiamo come riscontro un po' la cocaina era soprattutto le vanicolo e quindi in qualche maniera questo ha determinato anche poi tutta una serie di problemi sanitari di emergenza importante anche noi abbiamo avuto nei due mesi dell'ultimo lockdown nove decessi tra persone tra le persone che vivono per strada soltanto degli utenti non persone che vivono per strada tra gli utenti dell'unità di strada dell'unità del drop-in quindi abbiamo avuto un'incidenza di problemi psichiatrici molto elevata elevami solo sappiamo quanto possa dare in qualche maniera anche delle forme di allucinazione insomma tutta una serie di correlati di problemi di sintomi pronti questa cosa noi ce la siamo spiegata sicuramente col mercato ma e qui ritornerei anche un attimino indietro sempre a quello che diceva credo Farnetti Farnetti stamattina dell'importanza della gruppalità lo diceva anche Mauro nel quello che abbiamo potuto constatare verificare e qui forse rispetto a quello che diceva Mauro ci siamo confrontati prima anche c'è una piccola differenza ma sicuramente i gruppi sono nate nuove diciamo così forme di aggregazione queste nuove forme di aggregazione e credo che il crack in qualche maniera c'entri molto in questo ok queste nuove forme di aggregazione sono in qualche modo hanno determinato dei dei rapporti tra gli utenti di maggiore riconoscimento reciproco su questo noi siamo stati devo dirlo lo dico siamo stati anche molto bravi nell'accompagnare in questo processo di riconoscimento nei gruppi le persone e quindi di definire all'interno dei vari gruppi di soggetti di persone che facevano usare sostanze favorire la possibilità che ognuno potesse riconoscere l'altro in quanto portatore di bisogni specifici rispetto ai suoi no? è stato un lavoro secondo me sul quale abbiamo posto molta attenzione ma che ci ha dato la possibilità anche di intravedere una possibilità politica diversa di quella che può essere una direzione dell'intervento politico diverso probabilmente probabilmente ci auguriamo che anche questo possa essere uno dei temi perché lo ripeto a differenza di Mauro e anche di quello che diceva Susanna stamattina sì è vero c'è una maggiore frammentazione del consumo una maggiore però la sensazione che abbiamo che questa dimensione di gruppalità anche magari per ragioni difensive rispetto a un reale che è vissuto un po' come minaccioso vissuto un po' come diciamo più pericoloso più incerto questa dimensione di gruppalità trae senza dimora che noi del nostro che afferiscono i nostri servizi in qualche maniera più salda rispetto a prima questo lo possiamo dire senza altro va bene grazie Luigi io adesso andrei in pausa perché credo che poi l'attenzione anche cali lasciatemi però restituire due cose e metterle in agenda sul nostro Padlet anche in vista della discussione di domani che ha detto Luigi voglio riprendere una questa cosa sul ruolo degli interventi di riduzione del danno è una questione che dobbiamo avere sempre in mente perché noi abbiamo da un lato la riduzione del danno come approccio quindi come politica poi abbiamo la riduzione del danno come sistema di interventi le due cose devono stare insieme altrimenti gli interventi si trovano un carico di responsabilità nel governo dei fenomeni che non possono avere in quanto interventi o sistemi di intervento se non c'è anche una riduzione del danno come strategia politica che viene portata avanti dalle amministrazioni cioè le due cose se non stanno insieme finiscono col trasformare noi in agenti dell'occultamento o dell'incapsulamento delle marginalità con cui lavoriamo che è l'esatto opposto di quello che vogliamo fare prima cosa seconda cosa i sistemi di welfare locali perché una questione quando parliamo dei nostri è una cosa che ci riporta a galla il dibattito più che politico e che ha a che fare anche con i diritti del welfare per i meritevoli allora i poveri meritevoli che sono quelli che va bene possono accedere a alcune misure di welfare non sono mai i nostri perché chi sceglie di usare una sostanza stare ai margini per una serie di ragioni non rispettare la legge perché è entrato col barcone eccetera non sarà mai dentro la categoria del povero meritevole quindi o si fa un ragionamento politico su che cosa deve essere il welfare qual è il tipo di accesso e quindi il fatto che la piantiamo di frammentare non solo le identità e le scene ma anche il welfare tra quella il livello dove il mio utente può entrare serie B e il livello serie A dove possono entrare tutti gli altri cittadini cioè quindi abbiamo tra le mani una questione direi piuttosto importante di politiche che riguardano le municipalità insomma che vanno controcorrente perché il trend è quello dei poveri meritevoli scusate chiudo tutto questo dibattito pre-elettorale insopportabile sul reddito di cittadinanza è quella roba lì cioè stiamo discutendo di questa cosa qui e questa discussione va nella direzione di un welfare per pochi selettivo e non certo con un welfare come declinazione del diritto di cittadinanza quindi noi abbiamo a che fare con tutta questa questione che è enorme però quando ci confrontiamo con un assessore io al mio assessore mi sento di chiedere ma qual è la tua idea di welfare e che passaggi stai facendo perché sia un welfare inclusivo e non selettivo questo direi che ce la segniamo allora pausa caffè vi chiedo come sempre di autorregolarvi un po' e di non prendervi tre quarti d'ora perché abbiamo tre relatori che ci interessa ascoltare grazie direi assai produttiva giornata e abbiamo tre relatori scusate abbiamo tre relatori che come dire ai quali abbiamo chiesto di abboccare ai nostri ami lanciati durante le relazioni precedenti e insomma di darci qualche input qualche visione qualche elemento in più per fare qualche passo in avanti allora abbiamo Vincenzo Scalia che è sociologo della devianza qui all'università di Firenze si è occupato di molte cose tra le quali anche si è occupato molto di questioni securitarie diciamo così e quindi è un invito mirato in questo senso abbiamo poi Margherita Neri che è di Piazza Grande di Bologna ma è anche della Fiospd che è la federazione degli organismi che lavorano con le persone senza dimora e che ha anche un ruolo e una competenza specifica per quanto riguarda l'approccio dell'Housing First che credo per noi sia molto interessante e poi Cristian Raimo che è tante cose quando gli ho chiesto quando glielo ho chiesto lui mi ha detto insegnante e scrittore però ci tengo anche a dire un'altra qualifica che non è secondaria in questo nostro contesto che è assessore alla cultura del terzo municipio di Roma quindi come dire sta anche dentro la macchina amministrativa oltre come dire ad avere uno sguardo riflessivo e critico su una serie di cose che ci riguardano allora io chiederei a tutti di stare sui 20 minuti così chiudiamo per l'ora che ci siamo prefissati e darei la parola per cominciare a Vincenzo Scadia grazie Vincenzo grazie a te per l'invito grazie a voi di essere qui devo dire che spero di non confondervi le idee perché la carne al fuoco che è stata messa da chi mi ha preceduto e chi ci ha preceduto è tantissima e ci vorrebbe veramente un'altra sessione intera dedicata almeno per quello che mi riguarda a commentare gli spunti ricchissimi di riflessione che ho ricevuto ma proverò a confondervi il meno possibile perché poi dicono che i sociologi almeno questo lo dobbiamo fare quello di confondere le idee e non di risolverli e quindi sulla base di questi degli interventi io articolarevo i miei interventi in tre concetti tre punti anzi uno è quello degli imprenditori morali e questa è un'idea che mi è venuta in mente proprio quando i relatori sulle regione hanno parlato di striscia alla notizia ora ci andiamo in modo più accurato il secondo è quello dell'uso del territorio e il terzo punto che vorrei provare a sviluppare è quello dell'empowerment o se vogliamo per evitare di non usare un termine straniero ma dieci anni l'inghilterra un po' di nostalgia ogni tanto mi viene ma non c'è una traduzione italiana buona non c'è come accountability empowerment sono dei termini che mi fanno venire la nostalgia di Southampton ma giusto quelli poi il resto sono molto contento di essere qui chiamiamola partecipazione il coinvolgimento il protagonismo una volta si si è detto delle masse del pubblico della cittadinanza comunque cominciamo col primo punto l'intrenditoria morale dicevano i relatori delle reggiane ci hanno parlato di mafie di tutti i tipi mafia nigeriana mafia colsovara mafia albanese e non c'era però i residenti di Reggio Emilia continuavano a dire che c'era la mafia continuavano a vederlo come una corte dei miracoli locale da cui tenersi alla larga come il riscettacolo diciamo di tutte le pieghe sociali che affliggevano la città di Reggio ma non era così e qua dobbiamo fare una riflessione diciamo in merito alla composizione o meglio alla scomposizione della società contemporanea cioè cosa significa la società contemporanea oggi se non lo spossessamento l'alienazione dei cittadini del territorio noi abitiamo un territorio abitiamo uno spazio ma non sappiamo cosa c'è anzi pretendiamo di sapere accettando i saperi che vengono filtrati dalle rottresentazioni mainstream dei media della televisione oggi l'opinione pubblica in Italia prevalentemente la fanno le iene e striscia la notizia per dire a livello di televisione il settimanale di inchiesta come? si potrebbe fare anche quando hanno convinto il giudice a togliere il bambino dalla madre che fumava crack e ogni settimana facevano una puntata per vedere se la mamma si era disintossicata ce ne sono tanti gli esempi che potremmo fare ma non ragioniamo di loro ma guarda e passa dice un concittadino illustre di questa città quindi il problema è questo manca il contatto tra il pubblico e il territorio che vive per cui ci si contenta di rappresentazioni di giornali che sappiamo benissimo che assolvono il ruolo di produttori di paura di produttori di spauracchi di catriespiatori giornali e non solo nel senso in senso lato di stampa di media anche a Reggio Emilia cosa succedeva magari il vicino gli doveva dire la TV che è sede a Colonia Monzese ed è uno spasamento un paradosso questo perché questo si traduce appunto in una introduzione e ritroduzione di spossessamento a partire dal quale si genera il securitarismo noi non sappiamo che cosa c'è lì dentro ci sono tutte le nostre paure quindi dobbiamo agire dobbiamo adottare le maniere forti non si riesce a rapportarsi con la situazione così com'è e qua appunto mancano diciamo tutti i filtri tutti i corpi intermedi che una volta c'erano c'è la crisi probabilmente delle organizzazioni che una volta c'erano sul territorio positivi o negativi che fossero partiti sindacati anche associazioni religiose che creano aggregazione che creano senso che danno la possibilità di rapportarsi alla realtà così com'è questo non è del tutto negativo poi lo vediamo quando parliamo dell'empowerment e vi dico perché però questo sfasamento della percezione della realtà è proprio lì che si genera il securitarismo e qua mi viene una riflessione per esempio sulle politiche cosiddette di riduzione del danno perché pensavo a quello che diceva Susanna stamattina in realtà la riduzione del danno sì in Italia con le droghe l'abbiamo conosciuto con l'AIDS ma è figlia di un approccio dei criminologi realisti sinistro inglesi i quali dicevano la criminalità è un fattore di classe operaia perché il tossicodipendente che ruba lo stereo operaio è la vittima del furto dello stereo del tossicodipendente operaio quindi dobbiamo elaborare delle politiche che sanino le fratture all'interno della classe operaia quindi probabilmente quando l'abbiamo importato in Italia i primi anni 90 l'abbiamo importato vecchio quando l'Italia aveva già attraversato la ristrutturazione industriale che l'Inghilterra traumaticamente aveva sperimentato prima e questo fa sì che non riusciamo a contenere tutti i bisogni tutte le soggettività che invece in una società postindustriale si manifestavano nell'Inghilterra negli anni 80 già avevano la coperta corta questo approccio cioè aveva degli aspetti innovativi per dire si diceva perché l'operaio che va in galera per la rissa al pub deve prendersi sei mesi magari si piglia sei mesi di detenzione solo il venerdì e il sabato quando gli operai vanno al pub però la società inglese degli anni 80 non pensava che esistessero gli afro-caraibici fino a Brixton almeno non pensava che esistessero gli squatters o faceva finta che non esistevano la Thatcher che disse non esistono in questo paese questioni sociali ma esistono questioni criminali non pensava che esistessero gli LGBTQ e in Italia è successo che l'abbiamo importata negli anni 90 ma l'abbiamo importata come un tentativo disperato perché diceva Susanna mi sono occupato di securitarismo si nasco col mai troppo rimpianto Massimo Pavarini con Dario Melossi e l'esperienza della regione Emilia Romagna di Città Sicure lo considero sempre questo con molto orgoglio il mio marchio di fabbrica e allora a quel punto Massimo buonanima disse nel 94 95 non possiamo lasciare la questione della sicurezza alla destra proprio perché si vedeva che nasceva in quel momento nascevano i comitati civici nascevano le ronde e quindi dice dobbiamo dare una risposta da sinistra e la ricetta del realista di sinistro inglese si fu quello il Massimo che in quel momento come dire città sicure l'amministrazione Emilia Romagna la poteva proporre perché comunque l'Italia aveva ancora negli anni 90 un tessuto industriale abbastanza robusto e un tessuto sociale abbastanza compatto quindi poteva sembrare che che funzionasse ma non ha funzionato ma non ha funzionato non ha funzionato del tutto tant'è che poi anche negli altri paesi negli altri paesi che si sono ispirati a quel modello abbiamo avuto delle esperienze miste diciamo tra securitarismo e approccio della riduzione del danno pensiamo in Olanda per esempio ai contratti di civilizzazione della città di Rotterdam qualcuno ha mai sentito parlare? allora i contratti di civilizzazione sono che se la città di Rotterdam sa che ha a che fare con un consumatore di superfacenti contro eccedenti penali dice ti revochiamo il welfare ti revochiamo l'affitto oppure no tu firmi un contratto di civilizzazione in cui accetti che torni a casa alle 10 non invidi gente a casa non consumi alcolici tabacco stupefacenti nella casa che ti affitta il comune e accetti dei corsi di formazione a 200 euro al mese o fai questo o se no alla prima infrazione che commetti questa è la regola ti revochiamo il welfare questo è il famoso welfare to work il famoso modello diceva Tony Blair buonanima in senso politico non è ancora vivo tough on crime tough on excuses cioè dobbiamo essere duri contro il crimine e le sue cause è un modello che in qualche modo nella cultura di massa è stato sfatato per esempio se avete visto Bonin a Columbine di Michael Bush che l'aveva affrontato per gli Stati Uniti anche là diciamo abbiamo la coperta corta di questo modello che tuttora viene applicato in Italia aveva avuto dei promotori che però non è andato non è andato a buon fine certo diciamo rispetto al poco che c'è in Italia probabilmente questi modelli sarebbero un esperimento ma gli effetti sono quelli di contenere e di controllare il bacino di devianza di marginalità si dice per usare un concetto criminologico con net widening c'è l'allargamento della rete c'è questo bacino dove galleggiano i devianti quelli a potenzialità deviante li teniamo lì li controlliamo con un po' di welfare un po' di assistenza ma sempre sotto la minaccia della risorsa penale ecco allora a questo punto secondo me entra in gioco la seconda variabile l'uso del territorio perché si preferisce agire così perché comunque diciamo con la frammentazione sociale che ha avuto luogo dagli anni 80 in poi e che prosegue in modo più spinto in questi anni in qualche modo anzi non in qualche modo effettivamente gli stili di vita si sovrappongono abbiamo una zona della città che si gentrifica che quindi avanza verso la promozione a partire alla moda trend vivibile è una zona altra zona è la città dove continua la marginalità le reggiane sono alle spalle del centro storico di Reggio Emilia che è uno dei più curati uno dei meglio tenuti del paese ma anche d'Europa però alle spalle c'è questo non può essere tollerato questo stamattina un discussant ha citato Antrilefer col diritto alla città è vero la città come valore di scambio la valorizzazione delle rendita fondiarie ecco a questo proposito sulla fermentazione poco fa mi ha colpito questo intervento sulla diurnificazione della notte ma così si rischia appunto di segmentare secondo me le definizioni della vita sociale a priori e di produrre un controllo comunque voglio dire potrei citare un'esperienza personale di Bologna dei primi anni 90 ma non la cito ma penso a quando diceva si diceva negli anni 70 che l'università doveva restare aperta tutto il giorno perché perché per esempio gli operai avrebbero potuto avere la possibilità di assistere alle lezioni o di iscriversi o di seguire quei corsi c'è il turno di giorno il turno di notte quindi c'è sempre un flusso continuo di relazioni sociali e questa categorizzazione diurnificare notificare può essere può andare rischia di andare nella direzione di come dire assecondare questa tendenza a promuovere il valore di scambio all'interno della città la città deve essere quello che i cittadini ne fanno Buenos Aires per dire una città che uno va in avenida Cordoba alle 5 del mattina e ci va alle 3 di notte trova sempre teatri aperti cinema aperti se vuole mangiare all'imbarazzo della scelta e nessuno si pone il problema del controllo di quello spazio di avenida Cordoba poi in Argentina ci sono altri problemi riusciamo stare ma comunque è un modo diverso di vivere di rappresentarsi lo spazio lo spazio urbano la vita associata quindi sull'uso del territorio bisogna fare una riflessione no? Le Regiane è una bella esperienza però uno si pone il problema vabbè è venuto il tecnopolo e non ci sarà il centro commerciale meno male c'è da dire perché purtroppo in Emilia Romagna io abito a Bologna perché dietro casa mia chiude la caserna dei carabinieri e la coppa ha deciso di farci 7500 alloggi e un centro commerciale ovviamente coppo e dice ma un po' di fantasia mi ricordo nel 2000 quando c'era la questione dell'XM20 del mercato strutticolo di Bologna quello che è poi diventato XM24 qui Margherita sai di che cosa sto parlando Bifo disse ma scusate visto che è occupato dai migranti senza detto perché non gli facciamo fare una moschea un ammam un centro commerciale islamico dei negozi alal e gli facciamo una cittadella del multiculturalismo a costo zero diamo a loro in mano la possibilità di costruirselo e sarebbe un modo di rigenerare un pezzo di città promuovendo anche l'integrazione di una fascia di popolazione che a Bologna è sempre più consistente e probabilmente qua dicevano le relatrici di Firenze la criticità del tempo e sì la criticità del tempo non consente di sviluppare dei progetti a lungo termine ma anche l'altra criticità che avevano enumerato le relatrici fiorentine che è quella della volontà e delle risorse che comunque le risorse destinate al pubblico tendono sempre a contrarsi ma viceversa si ampliano quelle destinate al privato o impiegate dai privati per dire sulla sicurezza andiamo verso quella che Mike Davis un altro grande sociologo urbano chiama la distruzione dello spazio pubblico se voi oggi andate a Londra non potete più nemmeno appoggiare un piede su un muretto per allacciarvi una scarpa perché quel posto è stato privatizzato appartiene alla compagnia che lì ci ha costruito i suoi uffici il suo quartier generale è controllato dalla polizia privata da videocamere private e non è più possibile accedervi quindi c'è questa distruzione dello spazio pubblico con una zonizzazione dove certi comportamenti possono avere luogo possono prendere atto solo in certe zone della città altre zone non distruggiamo il manufratore del mercato e questo fa sì che si esacerbano i conflitti perché se lo abbiamo noi uno spazio direzionale uno spazio per studiare uno spazio per la movida è chiaro che come dire c'è un'ipertrofia di funzioni che noi deleghiamo a un determinato luogo ed è chiaro che si vengono a creare inevitabilmente le contraddizioni dei conflitti e qui arriviamo al terzo punto ti ringrazio Susanna capisco quanto è faticoso il terzo punto è quello dell'empowerment Luigi Trima nel suo intervento ha detto una cosa bellissima ha detto l'aspetto politico di quello che si fa cosa si deve fare si deve assecondare la tendenza di turno si deve fare sì che si gestisca l'esistente il contingente o si deve operare per cambiare questo è forse il problema da porsi è il nodo da sciogliere nel senso che tutti gli interventi negoziati tutti gli interventi plurali sono importanti però sono importanti nella misura in cui vengono coinvolte le persone stesse che le vivono si dice che oggi c'è una sicurezza di tipo plurale ma una sicurezza di tipo plurale perché perché alla fine torniamo a quello che dicevo prima c'è una specie di trade off in cui il cittadino globale direbbe Bauman scambia un pezzettino di insicurezza con un pezzettino di opportunità di trospettive quindi questo equilibrio comunque tra insicurezza e opportunità e trospettive si può colmare solo in una maniera coinvolgendo una gran parte del pubblico coinvolto io penso a delle piccole esperienze stavolta in Italia non so se avete presente il tentativo che è stato fatto alla regione Umbria prima dei cambiamenti amministrativi in cui proprio la sicurezza dicono la sicurezza è anche la sicurezza dei migranti quindi cosa vogliono i migranti per sentirsi sicuri la sicurezza è anche la sicurezza degli LGBTQ più correggetemi se sbaglio se la definizione è giusta la sicurezza è anche quella delle donne che vogliono fluire della città e quindi dobbiamo affrontare tutti questi problemi la sicurezza non è soltanto decoro urbano non è soltanto decoro urbano in funzione del consumo è una regione piccola l'Umbria Perugia però contiene dei conflitti pensate al caso Meredith che è emblematico di una città che ospita l'università per stranieri una grande comunità di studenti stranieri per quanto sia una città di 130.000 abitanti tra l'altro se lo volete andare a vedere questa esperienza è il libro di Stefano Anastasia in sicurezza si chiama quindi potete andare a guardarlo è illustrato è ben documentato con dei lavori di ricerca di giovani ricercatori quindi quella potrebbe essere il punto di partenza poi vabbè mi viene sempre io ho passato abbastanza tempo un po' in Argentina un po' in Messico cioè quello che succede in Argentina è che le fabbriche dismesse vengono occupate e gli si rimette a produrre oppure si creano delle situazioni di produzione di senso indipendente e in quel momento che Kirchner aveva interesse a recuperare a costruirsi un consenso ha consentito a queste esperienze di fiorire ma qua in Italia siamo più avanti in qualche modo o siamo più indietro perché c'è bisogno di ricostruire un tessuto sociale c'è bisogno di ricostruire una società e probabilmente questo si fa con un empowerment dal basso che e qui concludo così evito di sporare segua quello che diceva un altro grande sociologo uno che si è occupato tra i primi di sicurezza in Italia Alessandro Baratta Alessandro Baratta diceva vogliamo la sicurezza dei diritti o il diritto alla sicurezza lui diceva probabilmente il primo diciamo così permette al secondo di svilupparsi io direi che ho detto abbastanza spero di non averlo riconfuso troppo spero di non essermi contraddetto troppo ma se mi sono contraddetto troppo può anche essere che perché i relatori sono stati molto fecondi nei loro stimoli e quindi fanno pensare in più direzione e lascio la parola agli altri grazie grazie Vincenzo secondo me molte cose interessanti io sottolineo solo quest'ultima cioè il richiamo alla potenzialità di progettazione e di costruzione indipendente della società secondo me questo è un tema che dovremmo sempre avere avere presente con tutte le difficoltà perché qualcuno ha detto anche che la società non esiste tra i vari autori di nostra conoscenza ma invece io penso che questo sia un ragionamento importante che ci coinvolge va bene grazie e darei la parola a Margherita adesso Neri sul suo terreno ok innanzitutto vi ringrazio per me è la prima occasione appunto di partecipare a questo evento e penso che negli anni prossimi sarò anch'io qui come partecipante perché ho ricevuto tantissimi stimoli da portare a casa da portare all'interno della mia cooperativa della mia organizzazione e ringrazio tutte e tutti voi per non essere ancora svenuti alle 6 del pomeriggio e giuro che sarò veloce e non vi farò addormentare anzi spero di non farvi addormentare e io appunto volevo portare il mio punto di vista da un osservatorio ristretto che è quello legato alle persone senza dimora e cogliendo gli stimoli che sono emersi da questa mattina a questo pomeriggio che sono tanti e mi hanno portato a trovare tantissimi punti di connessione con tutto quello che è il mondo il circuito della grave marginazione adulta e in primo luogo volevo riprendere appunto l'intervento e il tema sollevato dal progetto notti di qualità rispetto al tema delle politiche securitarie in riferimento soprattutto al tema delle persone senza dimora e queste politiche colpiscono in modo forte le persone senza dimora e si manifestano in diversi modi come penso ad esempio all'architettura urbana che negli anni ha subito notevoli cambiamenti mi vengono in mente le panchine che non ci sono più appunto queste panchine lunghe ma ci sono delle panchine monopersona e penso alle fontane che non sono più accessibili per tutti e per tutte e abbiamo avuto un'estate tremenda rovente e ha messo in discussione penso moltissime delle vostre unità di strada che sono servite come servizio salvavita per le persone e penso al decentramento delle strutture di accoglienza che spesso sono difficilmente raggiungibili e sono ubicate in zone marginali della città ricordando simbolicamente le persone che si trovano ai margini della città che sono marginali anche da un punto di vista spaziale o penso alle misure dei daspurbani che a Bologna hanno portato a una forte mobilitazione da parte delle organizzazioni cooperative della cittadinanza portando alla dispo urbana quindi le persone della città sono scese in piazza con le persone senza dimora per parlare di disponibilità e non di daspo e tutto questo delinea uno spazio di una città che non è per tutti di una città che deve essere pulita deve essere turistica deve essere dedicata a una classe medio alta e a una città che non è capace di tenere al suo interno le diversità e io adoro personalmente il concetto di diversità e di complessità e penso che una città bella una città come Bologna ma penso alle tante città che voi rappresentate in qualche modo debba tenere al suo interno gli elementi di diversità e di complessità e tutto questo mi spinge a fare una riflessione che in realtà ho in testa da tanto tempo e sulla quale chiacchiero con i tanti operatori che incontro durante le formazioni rispetto ad Housing First che facciamo in giro per l'Italia che ruota attorno al concetto di fragilità e per una volta non vorrei parlare di fragilità legata alle persone senza dimora ma legata al nostro sistema dei servizi e quando penso ai nostri servizi penso che siano ancora dei sistemi fragili e mi piace pensarla così in una prospettiva di cambiamento quindi avvicinandoci a un concetto di antifragilità di cui non parlo io ma parla nel suo libro Taleb e dove appunto l'antifragilità è quell'attitudine dei sistemi a modificarsi e a migliorarsi di fronte a delle sollecitazioni dei fattori di stress di disordine dove noi come organizzazioni del sociale siamo immersi ed è un principio veramente applicabile a qualsiasi contesto e noi dobbiamo puntare ad una sfida che ci porti ad un modello politico dei sistemi di servizi che sia integrato ed antifragile provo ad addentrarmi facendo anche magari degli esempi che mi riescono meglio appunto per la mia natura da operatrice nella dimensione del senso del lavoro noi normalmente nel lavoro sociale entriamo nella logica di un principio regolatore chiunque di noi si approccia a qualcosa da fare e pensa che la prima cosa che fa non è appunto quella di cercare di capire che cosa c'è da fare di farla ma di guardare il contesto analizzarlo e questa è una tendenza naturale che abbiamo tutti tipica del mondo occidentale che ci deve però far riflettere come punto di partenza e in una traiettoria che sia antifragile il principio regolatore esiste non va vietato ma va implementato in una quotidianità che è disordinata che non può prevedere il nostro controllo sempre e comunque e che non possa immaginarsi di contenere il disordine in delle scatole che le nostre organizzazioni che le nostre teste preconfezionano e le nostre organizzazioni secondo il principio regolatore che cosa fanno quando ci sono delle cose da fare creano delle scatole all'interno delle quali inseriamo delle cose e penso alla scatola delle convenzioni dei bandi delle mansioni dei servizi divisi per target quindi targettizziamo la persona a partire dal problema e non a partire dalla sua interezza come persona con delle dignità e delle competenze e a partire da questo da questo questa è l'uccubrazione mentale e penso che la sfida la prospettiva è quella di ripensare i nostri servizi in una maniera che sia diversa perché altrimenti tutte queste scatole che abbiamo costruito diventano inefficaci e creano anche molta frustrazione a noi operatori sociali io penso ad esempio a delle persone che ho incontrato nel mio lavoro sociale che da vent'anni orbitano all'interno del circuito della grave marginazione adulta e io penso che forse abbiamo fatto qualcosa che non va bene come sistema dei servizi perché questa persona non sta bene in quella situazione e una responsabilità ce l'abbiamo e analizzando questa situazione penso che sia giunto il momento di porci in una prospettiva diversa forte che ci deve impegnare in un modo integrato e di rete e rispetto proprio a questo entro un po' appunto nel mio territorio comfort che è quello appunto dell'Housing First presentandovelo come una possibilità di sistema antifragile perché appunto non so se immagino che qualcuno di voi conosca il programma di Housing First provo a non addormentarvi su questo però appunto è un programma che capovolge un sistema di servizi che prevede un modello a gradini per cui un modello meritocratico legato alla premialità quindi una persona in strada viene intercettata da appunto il servizio mobile di sostegno dall'unità di strada che con fatica instaura una relazione di fiducia con questa persona e che cosa può offrirgli secondo la logica del sistema gradini una struttura di vasta soglia che dopo un tot di tempo finisce l'accoglienza e così via se la persona riesce a stare alle regole riesce a stare appunto in una dinamica di ottimo cittadino cosa che io come Margherita non riesco ad essere un'ottima cittadina quindi stiamo chiedendo veramente tanto alle persone senza dimora allora forse può accedere a una struttura di secondo livello e così via però quello che noi notiamo e che possiamo vedere è che la maggior parte delle persone rimangono intrappolate in questo circuito rimangono intrappolate tanto che incontriamo delle persone che sono da 20 anni in strada e il programma di Housing First che non abbiamo inventato in Italia ma nasce in America da uno psicologo di comunità geniale e folle allo stesso tempo che è Samson Beris appunto nasce dall'idea che la casa è un diritto umano inalienabile e in quanto tale è un diritto anche delle persone senza dimora e lui si era accorto che c'erano delle persone che erano in strada da tempo con problematiche psichiatriche che facevano accessi repentini alle strutture dedicate uscivano e stavano sempre peggio la condizione peggiorava e quindi si è detto ma la cosa più semplice da fare è inserirle in casa non in casa e lasciarle lì in casa affiancandole con un supporto educativo che vada a lavorare in una logica non solo individuale ma di comunità perché un altro elemento importante che volevo riportare al discorso è quello che noi dobbiamo immaginarci delle politiche che siano di inclusione all'interno dei nostri territori delle nostre città in una dinamica di comunità dove le persone non si debbano meritare un posto nella comunità quindi non lavorare per la comunità ma lavorare integrandoli perché parliamo di persone che hanno risorse che hanno competenze che possono arricchire il nostro senso di città e dov'è la correlazione con la riduzione del danno rispetto ai progetti di Housing First Housing First si basa sulla riduzione del danno è uno degli otto principi cardine e parte dal concetto che è un modello adeguato e efficace per persone che hanno delle grosse difficoltà legate alle problematiche psichiatriche legate alle dipendenze al consumo e non richiede dei prerequisiti di accesso per cui una persona può accedere anche se consuma sostanze anche se non è in carico a un servizio specialistico anche se non vuole farlo o anche qualora è entrato decida di non essere più in carico a un servizio specialistico e questo però ci porta a dover ragionare su una formazione di operatori che siano formati a lavorare in un'ottica di riduzione del danno che facciano un salto culturale rispetto alla relazione che noi vogliamo avere con le persone perché altrimenti ci stiamo vestendo di un modello e non lo stiamo veramente sposando e soprattutto lavora a partire dai bisogni della persona e lo fa veramente perché io ti consegno le chiavi in una dimensione di sicurezza dove a casa tua io ti chiedo il permesso di entrare in casa definiamo delle regole progettuali ma tu sei il proprietario della tua vita e io ti sono a fianco ti aiuto nelle azioni che pattuiamo e soprattutto rispetto al modello a gradini quello che va a modificare è una questione legata ai tempi di cui parlavamo anche prima negli interventi non vi sono tempi di uscita e questa è una grandissima rivoluzione perché permette veramente alle persone di poter partire da sé di non dover avere la fretta di dimostrare di essere capaci di non dover dimostrare di essere cittadini perfetti ma di poter lavorare sull'essere cittadini comuni e concludo qui e vi ringrazio grazie molto Margherita anche per avere proprio chiarito questo nesso dell'approccio tra l'housing first la riduzione del danno e direi un welfare per i non meritevoli quindi si tiene tutto in un approccio complessivo che penso sia davvero importante per la prospettiva che stiamo cercando di costruire la parola a Cristian Raimo per il suo intervento col quale chiudiamo questa nostra giornata Cristian eccomi stavo pensando mentre sentivo Margherita di leggere una cosetta allora il mio intervento sarà molto semplice ricordandosi la password non si chiamano la password previo no aspetta un secondo se no lo leggo così lo leggo tanto poi al mio intervento sarà abbastanza semplice spero di anch'io di non annoiarvi da una parte ma soprattutto di interagire in maniera sensata con le moltissime cose moltissimo intelligenti interessanti che sono state dette e si articolerà secondo diciamo vorrei arrivare diciamo a dare una mia come dire un mio contributo più politico che si dovrebbe articolare su più teoria più inchiesta più conflitto e partirei invece da due storie una una storia che conosco praticamente soltanto io della storia o poche altre che è la storia di due persone che hanno vissuto con me negli ultimi cinque anni che si chiamano Jan Gorcica e Marta Paciolciak una coppia di signori polacchi di oggi lui fa 60 anni giusti giusti e lei invece ne aveva 66 ed è morta l'agosto scorso l'11 agosto scorso e la seconda storia che invece vorrei ripercorrere è una storia invece più conosciuta anzi una storia molto conosciuta che è la storia di Luca Varani che è la storia del delitto Varani che insomma probabilmente conoscete perché è stata una storia come dire noir insomma di cronaca nera molto forte e su cui poi è stato scritto un romanzo di discreto successo insomma un libro di discreto successo che è la città dei vivi di Nicola Laggioia quindi diciamo due storie di Roma che insomma è un posto che io conosco solo quella quindi io parto da là personale politico va bene quindi la storia di Janek e Marta è una storia interessante perché io ho fatto una grande cazzata diciamo negli ultimi anni a un certo punto conosco Janek e Marta che sono due persone che vivono per strada dalla fine degli anni 90 era un ragazzino che faceva un po' di volontariato in parrocchia un po' dava una mano mi indignavo e in qualche modo mi sentivo solidale a come dire le molte povertà che vedevo in giro soprattutto quelle che a Roma sono state molto una grande grandi arrivi di persone provenienti dall'est Europa e con un paio di insomma diverse di queste persone chiaramente poi ho stretto le relazioni la relazione con Janek e Marta è stata una relazione personale insomma sono diventati quasi anzi non quasi dei familiari e questo è successo diciamo nel tempo io come dire gli ho dato ero sempre insomma in contatto con loro in tanti modi se c'era qualche bisogno di due spicci di un'altra cosa poi per un periodo come dire avevano le chiavi di casa dovevano fare una doccia o una lavatrice essenzialmente e poi a un certo punto sono stati sgomberati da anche lì sarebbe interessante poi avevano occupato un palazzo costruito da mezza Roma che è un palazzinaro romano importante e che quindi avevano stato occupato da varie persone perché questo palazzo poi non era stato costruito fino in fondo perché era stato dedicato a uffici che dovevano fare dei servizi ma mezza Roma scaltramente aveva fatto i soffitti leggermente più bassi in modo che fosse poi destinato a case che sono più remunerative questa cosa era stata bloccata da un tribunale e quindi questo posto era stato occupato da un po' di persone povere e straniere e quindi loro erano stati lì 5-6 anni Yannick è un fabbro molto bravo quindi sarà costruito una specie di loft diciamo in questa occupazione diciamo di persone e poi a un certo punto sono stati sgombrati anche da lì era febbraio ho detto boh state a morire de freddo venite qualche giorno a casa mia e quei giorni sono diventati 5 anni e mezzo è stato un massacro quindi diciamo che però è stata anche un'esperienza chiaramente molto bella molto istruttiva è tuttora un'esperienza bella e istruttiva perché Yannick come dire stamattina l'ho salutato ci hanno fatto il caffè insieme e quindi ci sono state varie fasi diciamo di questa relazione di coinquilinaggio diciamo fuori sede un po' eccessiva e la cosa diciamo ci sono tante cose interessanti ma forse la cosa più interessante è proprio il racconto e quindi diciamo una delle cose che a un certo punto mi è venuta in mente rispetto a il racconto che facciamo ed è quello che volevo farvi vedere ma insomma spero di essere chiaro nella lettura è che a un certo punto ho detto Yannick ma racconta la testa storia cioè cavolo nel senso è possibile che se io devo leggere cosa vuol dire vivere per strada io devo leggere sempre appunto qualcosa che racconta qualcun altro al massimo in genere non gliene frega un cazzo a nessuno però insomma se proprio devo leggere qualcosa su cosa vuol dire vivere per strada la soggettiva non esiste mai mai cioè nel senso è molto difficile che esista una soggettiva interessante che sia come dire che non sia semplicemente documentaria ma che abbia appunto una storia e quindi lui sta scrivendo un po' io ho pure insomma forse siamo riusciti pure ad avere un anticipo da qualche casidrice insomma tra una bevuta e l'altra diciamo questo romanzo va avanti e vi leggerei la prima pagina perché insomma ci sono tantissimi elementi interessanti in questo testo di Yannick vi leggerei la prima pagina che dice così questo sarà un breve racconto di mia esperienza sulla vita per la strada io ho lasciato più o meno la grammatica sui generis di Yannick tutto comincia nel 1998 di ottobre io sto in una stanza a Campo dei Fiori contratto di lavoro scaduto permesso di soggiorno uguale ho un milione e mezzo di lire in tasca e penso come riprendere tutto ma non è facile per carattere mio quando mi annoio decido di cercare amici di vecchia data e un pomeriggio vado a Montesacro perché sapevo che c'è qualcuno che lì chiede l'emosina al semaforo e anche sotto la chiesa infatti li trovo trovo tutti a Piazza Primoli accampati di giorno nel parco dove è il mercato di martedì e di sabato e di notte dormono sotto il negozio ex Levis di fronte all'ex GS adesso Carrefour sopra i cartoni la mattina caricano tutte le coperte sui carrelli di spesa e vanno nel parco vivono di l'emosina sia per la strada che davanti alla parrocchia gente del quartiere gli dà una mano il vino è onnipresente la sera gli portano cena da tavola calda tutto quello che è rimasto da pranzo nel posto dove era proprietario Mimmo adesso è in mano dei cinesi comunque decido di fermarmi qualche giorno subito la gente che mi sta aiutando si interessa di me per varie ragioni il mio italiano il mio comportamento parlando esce fuori che il mestiere mio e il fabbro mi accompagna in un'officina vicino da Pino lui sorpreso dal mio italiano mi assume una sera di martedì passa comunque Sant'Egidio con Panini e con occasione conosco Cristian io allora ero Sant'Egidio poi per fortuna ho smesso che allora ancora studiava in università stiamo parlando del 90 dopo pochi giorni conosco Marta perché è venuta a trovare un'amica a Bocena e nasce un sentimento Marta anche lei rischia di rimanere per strada ma troviamo un posto per lei da una pasana sua a due ponti e in breve anche lavoro fisso ma è badante a Valla Aurelia insomma decido di vivere sta avventura che poi è diventata storia vera di notte dormo sui cartoni mattina vado a lavorare Pino è comprensivo guardiano da campo sportivo e così trovo possibilità che ogni mercoledì mattina la doccia la possono fare tutti così dura tutto fino a gennaio 1999 mio datore mi indica la torre ossia Villa Farinacci di occupare dicendo che siamo più coperti e non diamo tanto nell'occhio detto fatto una sera dopo aver fatto sopra il luogo ci trasferiamo dal primo giorno rinuncio di nascondermi a distanza di anni mi domando che cosa mi ha spinto di fare questa scelta difficile sentimenti ne ho pochi carattere ribelle mancanza di senso di responsabilità più probabile voglia di vita un po' sbandata all'inizio siamo sette persone una coppia di polacchi un'altra di ucraini e altri due polacchi Dario e Iosef ci organizziamo con letti materasse e con aiuto di volontari di un'altra parrocchia che ci dà una cucina a gas abbiamo due cani e di conseguenza visto che c'è vicino un parco per cani comincio a fare amicizia con gente del parco acqua la portiamo dalla fontanella ovviamente la vita per strada comporta anche un'altra cosa per non pensare troppo si beve della mattina fino a sera tardi io stranamente ci riesco nonostante tutto a mantenere il lavoro ogni giovedì mi incontro con Marta e anche ogni domenica ci sentiamo tutti i giorni per telefono e forse questo mi fa mantenere l'equilibrio dopo un mese circa arriva una cosa inevitabile visita della polizia ci portano tutti in ufficio straniero all'epoca via Genova ma dopo identificazione ci rilasciano per me è un avvertimento così comincio a stringere amicizie più possibile con gente dei palazzi vicini ci riesco e questo è un altro punto a favore del futuro in quel periodo mi sento importante ormai ho preso questa strada un giorno arrivano ragazzi italiani adolescenti e mi chiedono se possono farsi un rifugio io dico sì così la comunità si va a ingrandire in questo periodo siamo tutti in una sala che era la pizzeria quando via la farinaccia era diventato un ristorante la torre i ragazzi si prendono due stanze proprio sopra proprio dentro la torre purtroppo con l'arrivo della primavera cominciano sgomberi prima arrivano tre connazionali miei che li sgomberano da sotto il ponte vicino al Niene e li accogliamo dopo una sera quando ho finito il lavoro incontro altri due che conoscevo sono andati in Polonia ma non hanno trovato niente nessuno e sono ritornati tutti e due erano alcolizzati ma hanno smesso del resto io bevo tutti i giorni ma mi salva il lavoro e mia resistenza prendo anche loro così diventiamo dodici uno di questi si chiama Stanislao e trova lavoro a Romagnoli Piscine per qualche tempo tutto fila liscio comunità di Sant'Egido porta panini ogni martedì sera ma a parte questo non sono in grado di dare una mano per lavoro o qualsiasi tipo di aiuto più efficace infatti mi sto domandando tutto sto tempo che questi stavano sotto pioggia a freddo sotto un pezzo di tetta e dormivano sopra i cartoni non potevate trovare un'altra soluzione per me due panini a settimana e domande cretine tipo come stai sono un'umiliazione e continua Yannick appunto questi ultimi mesi sono stati molto complessi perché Yannick poi coprino di Natale è entrato di sua volontà in un SPDC insomma a un aspetto psichiatrico è stato 15 giorni e poi hanno detto adesso stiamo cercando un posto un po' più per fare una residenza diciamo più a bassa soglia insomma così intanto boh non sappiamo bene dove mettere ho fatto a casa no c'è nel senso che è un SPDC facciamo che fai questo passaggio direttamente sì però così eccetera eccetera a un certo punto questa cosa non si poteva fare e tutto quanto e quindi a un certo punto Yannick è uscito stava in un dormitorio dopo due giorni stava di nuovo a casa mia e non l'hanno mai chiamato da gennaio scorso l'11 gennaio scorso accade questa cosa accade che Marta che appunto un po' senza Yannick sta sempre a casa mia che Marta senza Yannick insomma un po' sbarella chiaramente insomma questo rapporto 98 siamo al 2022 quindi sono 24 anni di relazione io non conosco molte persone che hanno 24 anni della relazione vivere per strada insomma è ancora più complicato e certo non devi discutere degli impianti di come rifare casa però insomma ci sono sicuramente molte cose che sono complicate e quindi a un certo punto Marta nei giorni che Yannick non ci sta e anche nei giorni che Yannick torna a casa a un certo punto prende esce di casa e sparisce nel senso che senza il telefonino che si trova è gennaio a Roma fa molto freddo in quei giorni lì e quindi 3-4 volte io di notte non so dove è Marta e comincio a cercarla con l'aiuto della polizia della sala operativa sociale eccetera eccetera una sera mi ricordo se l'11 gennaio o un'altra sera la ritroviamo con abbiamo imparato un po' come si faceva con il positioning con due poliziotti bravi alle 5 e mezza di mattina in mezzo a due macchine meno 3 gradi praticamente assiderata e io stavo lì e dico Marta cazzo cioè perché fai tutto questo c'è l'ambulanza e Marta dice no no ambulanza no è quella dell'ambulanza noi non la possiamo tirare su e a quel punto lì diciamo questa cosa questa è una delle prime questioni che vorrei affrontare da un punto di vista teorico diciamo una delle cose che ho capito che ho studiato un po' diciamo in questa lunga esperienza di convivenza è che di fatto diciamo tutta la politica della cura che qui stiamo su cui stiamo ragionando su cui stiamo attraversando negli ultimi anni ha sviluppato moltissimi dispositivi teorici normativi prima appunto si accennava ai DASP tutte le le narrazioni della sicurezza che venivano raccontate prima su come come dire non occuparsi di qualcun altro che sta male questo come dire è stato lo sforzo teorico normativo politico di moltissime persone io sono cresciuto diciamo nel novecento e come molti di voi credo in un contesto in cui le culture cristiano sociali da una parte socialiste dall'altra laiche dall'altra parte insomma le culture costituzionali rendevano come dire impossibile non sentire lo scandalo che se c'era qualcun altro che stava male comunque un po' erano cazzi tuoi questa cosa è cambiata nel senso questa cosa è cambiata e quindi ci sono persone che si sono formate che sono come dire dei nativi del neoliberismo dei nativi della mancanza di scandalo oppure ci sono persone che sono dei migranti come se esistono i migranti digitali i nativi digitali sono persone che qualche modo se una persona sta male vicino a te evidentemente in uno stato come dire di fortissimo bisogno o comunque di male tu hai un dispositivo teorico emotivo normativo professionale tale per cui a un certo punto tu quella roba lì non ti tocca non ti tocca questa cosa è per me incredibile è stata per me incredibile a un certo punto la convenzione di Yannick e Marta è stata veramente molto molto complicata e io insomma avevo l'ambulanza e altre cose a casa non soltanto tutti i giorni ma due tre quattro volte al giorno a un certo punto a casa mia c'era c'era un giorno ho contato 16 persone 16 operatori c'erano due carabinieri due poliziotti due persone della sala operativa sociale due ambulanze una con un medico uno senza un medico il medico della ASL due di un'associazione che a un certo punto avevo chiamato un medico amica mia due assistenti sociali del municipio credo di aver detto tutti e stavano lì ed era una scena come dire di un film dei fratelli Marx Marta diceva io non voglio andare in ospedale Marta cioè stai malissimo Marta devi andare in ospedale io non voglio non possiamo fare niente ho capito stava a morire cioè qualcuno deve fare qualcosa cioè stava a un certo punto per una settimana lei era dimagrita era arrivata a 34 chili stava letteralmente morendo a casa mia non riusciva a contenere più le feci era in uno stato cachettico si cominciava a essere così però insomma per una serie di ragioni così non voleva andare in ospedale andava in ospedale se ne andava e quindi se non vuole non possiamo fare nulla ma che non stava a morire cioè qualcosa ed era come dire il vertice di una lunghissima catena di colloqui che avevo fatto con associazioni eccetera eccetera qui andavo continuamente dicendo guardate qua abbiamo un problema qualcuno deve risolvere ma il problema non sono loro che stanno male eccetera però la so io che sto in burn out perché chiaramente non riesco ad avere una lucidità di un percorso che io posso fare rispetto a questa cosa loro dicono hai ragione tu non te ne devi occupare e ha fatto ok siamo d'accordo quindi facevo questo colloquio ogni volta con persone straordinarie io penso di conoscere le persone più straordinarie che sono a comuni sociali a Roma l'ho conosciuta per tante ragioni diverse perché faccio politica perché mi sono occupato di questo caso perché appunto a Roma insomma conosco e però a un certo punto tutte queste persone le più straordinarie le più volenterose le più volitive le più reattive le più intelligenti a un certo punto dicevano a me guarda allora allora tu domani telefona a questo numero senti questa persona qui fai questa roba e io stavo lì prendendo appunti e poi uscivo e dicevo cazzo mi hanno fregato un'altra volta uscivo da questi collochi e dicevo me ne devo occupare io ma il punto è che di fatto di fatto mi rendevo conto che io questi operatori queste persone eravamo in un contesto in cui la presa in carico a un certo punto rispetto o un senso di indignazione di scandalo del limite che può essere questa roba non si può fare però a un certo punto protesto mi indigno mi straccio le vesti appunto assumo come dire che quello scandalo non sia possibile gestirlo in un modo amministrativo in un modo come dire che mi faccia sentire a posto ecco questa è una cosa che chiaramente uno può fare cioè quante volte ci capita mi vorrei occupare di questa ingiustizia ma appunto non riesco a farlo e in questo caso no cioè io ho visto all'opera la costruzione e in questo senso io penso e quindi passo poi all'altra storia in questo senso io penso che ci serva come dire ci servono più ci serva tanta teoria su questo ci serva tanta teoria perché effettivamente i dispositivi fucoltiani che sono dispositivi cioè nel senso l'analisi fucoltiana che è un dispositivo di appunto repressione internamento le politiche della cura fatta così a un certo punto chiaramente non contemplava 40 anni di cultura neoliberistica il fascino della cultura neoliberistica perché se noi non capiamo che come dire l'essere individualisti è affascinante è dolce è bello perché io posso come dire non provare questo scandalo non occuparmi degli altri e andare a dormire bene e pensare di essere professionalmente all'avanguardia politicamente avanzatissimo beh quella roba lì come dire è dolce è succulente è miele è miele allora la cultura neoliberista dà una soddisfazione e quindi questa roba qui è chiaro che di fronte a occuparmi di uno scandalo che in qualche modo mi mette a disagio e mi fa sentire che non sto risolvendo un problema che quindi non avanzo beh quella roba lì chiaramente invece mi dà una soluzione almeno da un punto di vista teoria Marta come fa come finisce Marta la storia di Marta una storia molto triste che ancora non è finita perché a un certo punto lei perde l'uso delle gambe appunto in questa cosa così e quindi io trovo all'interno di un sistema appunto che funziona così un medico di vecchia di vecchia come dire conoscenza che a un certo punto viene a casa mia e mi dice qua è impossibile e quindi in qualche modo dice guarda tu prendi la butti fuori casa io dico che c'è un motivo di necessità e a quel punto fuori casa sul marciapiede lei non si può alzare e gli ambulanze non intervenire e quindi di fatto faccio io un TSO mi rendo conto che stavo forzando completamente mi rendo conto i danni psicologici motivo che veniva da questa cosa cioè nel senso c'è una persona che scalcia perché non vuole andare in ospedale mi rendo conto che questa cosa chiaramente non doveva avvenire poi Marta per fortuna riesce a essere curata sta in un insomma per un po' in una struttura dove riesce anche a disintossicarsi all'alcol anche lei è alcolista poi così questo accadeva verso marzo arriviamo all'inizio d'agosto lei va via da questa struttura ricominciano a vivere per strada una quindicina una ventina di giorni insomma andiamo per strada a casa mia questo è meno interessante a un certo punto purtroppo le troviamo nell'analisi che fa un tumore per fortuna in una fase non avanzata e quindi riusciamo a ricoverarla al gemelli nei primi di agosto al gemelli muore l'undici agosto non si sa perché doveva fare il giorno dopo una colonoscopia e la trovano senza vita in bagno questo accade l'undici agosto Marta non ha ancora avuto un funerale non ha avuto nessuno ha visto il suo corpo da quando è morta perché non ha una residenza e quindi non avendo una residenza il suo corpo in questo momento sta nella camera mortuaria del gemelli decomponendosi nonostante chiaramente la sala frigo e faticosamente con tutta una serie di persone in gambissima del comune di Roma le meglio persone che ci sono tra asla eccetera stiamo cercando di arrivare alla possibilità di fare un funerale dignitoso e come si dice siamo oltre chiaramente come dire il rapporto tra civiltà e non civiltà antico e polinice nel senso una persona che ha fatto una vita molto difficile una persona che ha avuto una morte che non si sa perché l'ha avuta e una persona che come dire anche da morta non riesce a avere un posto dove stare e quando si diceva prima housing first persino una bara in qualche modo in questo momento proprio perché non è una persona che aveva residenza così non poteva era difficile avere una residenza a Roma questo lo sapete bene perché appunto c'è Modesta Valenti a Roma che dà la residenza ai senza fissa dimora ma non agli europei a meno che non dimostrino almeno un reddito da 5500 euro al mese io ho detto anche ma insomma te li do insomma questa è la storia e mi sarebbe piaciuto raccontare anche l'altra storia e a questo punto come dire la indico soltanto perché magari è interessante un po' di bibliografia sono andato molto lungo ma insomma tutti questi passaggi evidentemente sono sono interessanti e l'altra storia che volevo raccontare era quella di quindi insomma oltre Foucault David Harvey Louis Vacan perché diciamo di chi è la colpa di questa roba qua beh la colpa per me è proprio della città io penso che la città le città siano dei killer cioè le città hanno in sé in chi costruisce le città anche in chi fa la politica urbana di dispositivi classisti assassini e la storia che volevo raccontare veramente posso prendermi un minuto uno no mi spiace solo perché abbiamo un evento alle sette se no ti darei anche un'ora ma cerco proprio di essere rapidissimo a Roma sono successi tanti delitti negli ultimi anni ma una delle cose che uno non nota è che molti delitti che sono stati disparti acqua omicidio reggiani nel 2008 che ha per cui poi a un certo punto il volo di sicurezza ha vinto Alemanno l'omicidio di Vanessa Russo quella donna che è stata infilzata da Ino Amatè dall'ombrello nella metro l'omicidio Varani l'omicidio di Willy Duarte che cosa hanno in comune questi omicidi che tutte le persone che hanno commesso questi omicidi non conoscevano la vittima sono omicidi che a un certo punto casuali di persone che la vittima hanno vista due minuti prima con una violenza efferata di fatto in contesti come dire pubblici di persone che come dire l'hanno beccati dopo un minuto non c'era che non era un delitto pensato nella metro nell'appartamento a confessare così ora ragionare su questi delitti per me è molto importante molto interessante se noi riusciamo a costruire però delle categorie interpretative come dire del novecento teniamo delle categorie del novecento e sono le categorie psicologiche che molto di voi ne abbiamo parlato o ascoltato prima e anche delle categorie marxiste cioè bisogna capire la città come funziona ma io dico soltanto questa cosa ve l'accenno poi magari appunto anche chiacchierando così la città dei vivi per esempio è un romanzo che racconta è un tipico romanzo che racconta come è fatto il male in questi anni in tutta la letteratura degli ultimi anni il male viene raccontato essenzialmente come un grumo nero che non si capisce bene perché succede la letteratura noir italiana spesso fa questo perché è morto Varani è perché c'è un male si capisce perché però se noi prendiamo e veramente finisco degli elementi minimi minimi quindi diciamo non un'inchiesta che dobbiamo scoprire delle cose nella storia di Luca Varani capiamo perché forse è morto Luca Varani ci serve secondo me questo sguardo Luca Varani è un ragazzo di 21 anni adottato da una famiglia complicata problematica povera abbastanza i genitori fanno gli ambulanti stanno alla storta lui molla scuola fai un CPA c'ha una lira è belloccio non c'ha una lira e quindi non riesce a pensare di riuscire ad andare a scuola senza una lira i genitori in qualche modo non lo assistono in questo continuare scuola e quindi dice ok mollo scuola nonostante non vada particolarmente male anzi e quindi cerca un lavoro dove lo trova un lavoro che il lavoro fa quando viene ammazzato Luca Varani il carrozziere sta a fare insomma ad aiutare un carrozziere a 700 euro in nero lavorando 10 ore al giorno ora Foffo e Prato quando stanno nell'appartamento di via Igino Giordani dopo tre giorni sono fatti 1500 euro di cocaina Luca Varani è la quarta persona che entra in quell'appartamento dopo tre giorni prima di Luca Varani ci sono entrati Damiano Pariodi che abita ai Parioli che si muove in taxi in tangenziale arriva capisce la malaparata il primo giorno il secondo si chiama Alex 40 detto Alex di Burtina sta a Garbatella c'ha 15 euro e arriva lì il taxi gli chiede 21 euro litigano un po' come dire anche lui capisce la malaparata ha fatto il barman capisce che il cocktail che gli danno è adulterato il terzo che arriva è Tiziano De Rossi che fa il cameriere quindi anche lui è un po' smagato arriva a piedi perché va stato al Bottarola a via di Pietralata vi leggo quello che scrive La Gioia ma quando chiamano il quarto giorno di aver fatto un giro nella ZTL cioè soltanto il primo e il secondo municipio a cercare una marchetta e quindi chiamano Luca Varani Luca Varani è alla Storta dalla Storta ai via di Giordani sono 30 chilometri e gli chiedono di andare a raggiungerli il taxi dalla Storta ai via di Giordani costa 65 euro il notturno sono due autobus ci mettono circa 2 euro un quarto quello che gli promettono sono 150 euro quando l'ultima cosa che sappiamo di Luca Varani è il messaggio a cui lui risponde sull'autobus allora che fa e arrivi ci si sto arrivando ma per me Luca Varani non muore per il delirio di due persone come Foffo e Prato che non sono prese in cura dal sistema pubblico sanitario nonostante fossero state tante volte segnalate una patologia molto evidente ma in qualche modo muore lì muore sull'autobus nel senso è chiaro che 150 euro la Storta una giornata come dire capisce che forse c'è un pericolo però è consumo è just fuck vieni c'è un pericolo sì però io per 150 euro se lavoro a 700 euro al mese sto alla Storta beh faccio molta fatica a evitare questo pericolo e quindi noi capiamo che la città costruita in questo modo le distanze i servizi il lavoro cioè degli elementi di materialismo gli elementi di materialismo sono gli elementi che chiaramente creano una simmetria enorme tra chi può permettersi di non curarsi e spendere 1500 può permettersi decide non si cura spende 1500 euro di cocaina e dall'altra parte una persona che per 150 euro prende un autobus alle due di notte per attraversare la città e andare a lavorare come marchetta da un'altra parte allora questo tipo questo tipo di analisi questo tipo di analisi più legata a elementi fattuali secondo me è un tipo di analisi che noi possiamo fare rispetto a questa costruzione di un male che sta da una parte così incredibile proprio cercando sia le categorie interpretative del 900 Marx, Freud sia anche come dire le ideologie più ideologia appunto quindi un po' di ideologia cristianesimo sociale socialismo quello che uno si ritrova a casa in famiglia nei libri che c'ha insomma secondo me questo può essere utile a tutti grazie scusate grazie 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 molte davvero e dobbiamo chiudere perché abbiamo questo appuntamento urbano e credo che anche oggi pomeriggio sia stato veramente molto interessante pienissimo di contenuti e di suggestioni adesso vediamoci il decoro fiorentino e ci vediamo con tutti comunque domattina alle 9.30 giusto? qualcuno ha lasciato un cellulare in bagno per evitare di completare il padlet ah perfetto sei esonerata comunque non c'è più bisogno